metto in prima in rilievo così insomma si vede la tua faccia se registriamo e si vede ok ragazzi chiudete i microfoni per piacere se non dovete parlare così almeno grazie no no basta che basta che registri vedi ci sono io lì ok perfetto grazie ero in macchina quindi ho dovuto no no ma va bene così va bene così sono sono sì ripeto siamo qui con un sacco di di anime diciamo che vediamo se riesco a farvele vedere un attimo di qualcuno che bello è stupendo da autodeterminati ci sono metà 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 e metà così insomma e quindi quindi adesso io sono sostanzialmente bloccato perché loro hanno impedito alla macchina di muoversi senso che hanno messo una davanti vedete proprio vicino 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 che si va dietro minacciando che se io li tocco loro possono intervenire perché io sto facendo violenza a loro incredibile girano le frittate sì e gli ho chiesto se per caso si muovono loro e mi toccano la violenza pure quella 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 hanno glissato e non hanno risposto nulla e claudio scusa è ancora con te rosa ti rosa in questo momento è fuori dalla macchina perché 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 è più prende un po di aria e quindi se si sta sgranchendo poi le gambe ma c'è un'altra anima vicino a me che mi sta in macchina che mi sta sostenendo quindi abbiamo aperta se tu devi scendere per andare a fare i pipì ad esempio cosa ti fa cosa succede che io ho una resistenza di dieci ore prima di andare in bagno per cui succederà questa notte alle tre di notte quindi non ho questo problema rosa è andata è andata in già in bagno abbiamo una pizzeria qua vicino quindi ha approfittato di scendere si è entrata un'altra anima in macchina per potermi sostenere è giusto che vi aggiorno vi aggiorno sulla situazione semplicemente qui siamo in stallo perché secondo loro questa macchina non può più circolare perché è stata è stata radiata e quindi e quindi per loro questa cosa qui è assolutamente inconcepibile perché questo è il loro territorio quindi tutto ciò che loro non riconoscono non può circolare e a detta loro siamo in attesa del cavatrezzi questo è quello che stiamo io vi ho fatto aprire la zoom perché alcuni personaggi di diciamo di riferimento che si sono comportati veramente male nel senso che hanno forzato la macchina per entrare hanno cercato di prendere il telefono alla signora rosa che era con me hanno fatto tutta una serie di cose in azioni diciamo di autorità e non di legge hanno cercato di arrampicarsi sugli specchi in tutti i modi ho dato loro tutti i documenti della frode della quindi militari order il fatto che il fatto che il fatto che italy republic off è un'azienda insomma tutte le cose di rito e le hanno definito le hanno definite anzi la persona di riferimento le ha definite documenti di paperino quindi quindi niente loro hanno evidentemente acquisito le informazioni dalle foto dalle cose insomma i dati della finzione giuridica adesso hanno detto che stanno scrivendo i verbali che non mi consegneranno ma che mi spediranno va bene insomma che 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 sprechino un po di raccomandate e questo insomma mi hanno cercato di far scendere per identificarmi quello che posso dirvi una notizia che io stesso non sapevo e che avevo eronamente travisato e questa sappiate che quando fate i documenti e date l'impronta del vostro pollice del vostro indice qualsiasi voglia impronta digitale loro affermano che questa viene cancellata subito dopo che il documento viene emesso in realtà è falso l'impronta rimane in archivio per tutta la durata del documento quindi questa cosa qua loro me l'hanno confermato perché mi fa venga la le chiedo l'impronta e io poi siamo sono a posto il retto ma scusi come fa avere la mia impronta perché quella rimane valida finché valido il documento quindi questa cosa qua è falso quando tu vai a fare carta l'identità dicono ah no no ma questa la cancelliamo subito è tutta fase no non sto uccidendo nessuno vediamo vediamo le chiedo un po di informazioni se vuole me le dà se no no ma io sentiamo avrebbero dei chilometri di questa macchina non li so è un veicolo storico sì ma chi li sta chiedendo scusi io sto facendo un report della ma a chi li sta chiedendo a chi li sta chiedendo e chi sono io allora io non le rispondo io non le rispondo fino a che non mi specifica chi le sta chiedendo alla finzione giuridica o all'uomo vivo a chi le sta chiedendo io sto chiedendo alla persona mi specifichi mi specifichi a chi lo sta chiedendo a lei che è la ma chi è quello che ha di fronte l'autista chi è l'autista mi dica allora finché non mi dice ha guidato la macchina è indifferente è indifferente lei mi specifichi con chi sto parlando e io le ho dato una risposta no perché il titolo lei ha dei dati noi sono i custodi di questa macchina non sono l'autista e chi è il custode di questa macchina e chi è no non siamo a posto finché lei non mi specifica chi le sta chiedendo io non posso dare le risposte che lei vuole sentire io le ho dato già tre indicazioni allora se lei ha fatto la domanda benissimo allora allora scelga scelga uno qualsiasi di quelli che sono qui chieda a loro posso fare quello che lei mi dice perché no sta dando un ordine no le sto chiedendo perché non può farlo no sta chiedendo uno qualsiasi che era qua io chiedo a lei che era l'autista e chi ha e chi ha segnato su quel foglio come autista cosa ci ha scritto su quel foglio io sto parlando di questa macchina ma io mi sono dimenticato i dati di questa macchina non mi ricordo più io non gli ho chiesto i dati di questa macchina io gli ho chiesto quanti chilometri ha lei me l'ha detto no 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 perché 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 non sono io quello che deve rispondere le ho chiesto è un veicolo storico lei mi ha detto sì e io l'ho riportato bene vediamo un po cosa altro mi serve adesso io verifico se l'anteriore posteriore superiore laterale destra sono idoli domanda gli esti a giurisdizione o molto danneggiate verifico audio sì dimmi chiedi al signore che ti sta di fronte se ha giurisdizione su una macchina di uno stato estero secondo il loro ordinamento ma mi scusi posso fare una domanda finisco lei a giurisdizione su una macchina di uno stato estero a giurisdizione deve finire allora attenzione claudio scusa se non mi vedi ma sono fuori e non c'è l'uso allora molto molto interessante lui sta cercando di farti identificare come hai notato giuridica la macchina per loro è riconducibile alla giuridica precedente all'esportazione quindi per loro quella macchina adesso il problema come mi dicevamo prima è il fatto che è stata esportata no sì esatto per loro questa macchina non è non è più controllabile ma tu non gli devi dire che è stata esportata è semplicemente in un'altra giurisdizione e questa giurisdizione comprende il legge naturale con l'alloggio primigione quindi tutta la terra quindi loro si devono vedere come quello che sei omo vivo custode della macchina e può viaggiare ovunque perché la macchina è un tuo dispositivo non dimenticare questa parola è un tuo dispositivo e quindi tu se ne la stai conducendo stai andando con quel mezzo in un luogo che non a loro non li deve riguardare quindi la macchina io questo discorso qua l'ho già fatto prima ok l'ho già fatto attenzione perché adesso rispondendo e prima e loro dicono vedi ma risposto e quindi di conseguenza chi ciò di fronte timido ea risponde questo voglio dire ma infatti quello poi gli ho chiesto chi si stava riferendo subito dopo dicevo accensione all'identificazione con la finzione giuridica anche se tu hai capito lo sai che non lo devi fare però allora adesso cercheranno di fare questo perché la possono toccare esclusivamente identificano quella macchina della finzione giuridica potete chiudere il portabagagli potete chiudere il portabagagli hanno aperto il portabagagli e stanno rivistando nella macchina sono vuote certo sono tutte vuote e olio di macchina possiamo aggiungere che dopo un po di tempo diventa sequestro di uomo vivo e si se questo è già passato dopo 20 minuti potete chiudere il portabagagli chiudere il portabagagli hanno entrando in una proprietà in realtà no stanno entrando in un territorio sovra giuridizionale davanti a testimoni giurati stanno entrando in un territorio sovra giuridizionale lo so più centi sì sì che lo dico vada potete chiudere il portellone l'avete aperto in frode siete entrati in un territorio sovra giuridizionale io non vi ho autorizzato ad entrare nel diritto non c'è sicuramente come no come no lei chi è chi è chi è chi è chi è no perché non puoi identificarsi perché non mi interessa il verbale il normale non mi interessa ci sono i nomi ci può darci ma adesso non può dirmi il suo nome potrei dargli un nome qualunque e io anche bene qui 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 come no io se che gliel'ho chiesto ma come no io io le ho chiesto il suo nome adesso non so io le ho chiesto di dirmi lei che che nome vuole che io le dico me lo vedrà letto sui verbali ma io ma la verba vola ma lei sta lei sta compilando un documento falso lei lo vuole firmare allora io non parlo con lei se non lo voglio neanche ascoltare quello che le sto dicendo lei deve dirmi a chi sta rivolgendo quelle domande a chi esatto e non mi ha risposto quindi a chi le sta rivolgere e non sto parlando dell'autista del conducente del signore che è seduto in macchina giuridicamente a chi lo sta chiedendo all'uomo vivo o alla finzione giuridica la domanda è semplice all'uomo vivo claudio dei paulini o alla finzione giuridica nulla è annullata dall'azione o ppt a chi lo sta chiedendo è una domanda semplice lei mi ha dato due risposte non hai detto che siano giuste allora io 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 non le ho dato nessuna risposta per la semplice ragione no le ho dato semplicemente prima che lei mi specificasse a chi si sta rivolgendo allora io le faccio io le faccio non mi ha dato una risposta io le chiedo giuridicamente lei si sta rivolgendo a homo vivo claudio dei paulini o a finzione giuridica io mi sto rivolgendo codice fiscale carta d'identità patente a chi si sta rivolgendo il verbale a chi l'hai testato il verbale il verbale che sta compilando con tanta solerzia a chi l'ha compilato è evidente che non mi lascia dalla risposta mi taccio mi taccio mi taccio bene buonasera buonasera a voi buonasera poi chiudete i microfoni autonomamente perché io non voglio stare qui a chiudere i microfoni parlate poi chiudete così non c'è ringombo ok Claudio dovresti girare la telecamera perché non si vede così non si vede non tu devi girare verso di loro aspetta un attimo che io sono un po' così quando faccio il finestrino dovremmo così va bene sì ok ok allora questi qui hanno aperto il portabagagli e ci sono imposti di non chiudere il portabagagli eh poi ti prendo il centrale chiudi le chiusure della macchina sono già chiusa ma evidentemente quella dietro era aperta non era chiusa per cui qua sulle portiere siamo chiusi ok un'altra cosa lui farà di tutto per far in modo che la macchina chiaramente risulti l'abbiamo già detto prima glielo devi dire che noi siamo in registrazione che ci sono 34 uomini e donne del popolo della nazione che giurati del popolo pubblici notari che stanno guardando e che quindi questa cosa andrà pubblica immediatamente glielo devi dire sì arrivo subito glielo devi dire questa cosa ok perché loro devono sapere che la registrazione poi andrà pubblica ti dicono no allora può pubblicare gli rispondi è già pubblica perché è vero che già pubblica siamo in 34 pubblico di così ok ok mi raccomando questa cosa io rimango in ascolto ma non posso parlare perché adesso dove devo chiudere la telecamera però ci sono già gli uomini e donne qui che ti danno supporto ci sono anch'io in energia ok grazie ecco qui bene scusami posso sapere che è successo mi hanno mi hanno fermato sul confine con le targhe IM e hanno detto che la macchina non può circolare perché non è sotto la loro giurisdizione ho capito benissimo vabbè piano piano qualcosa verrà fuori perché se il se i documenti sono giusti se tutto a posto loro devono cercare sempre di mettere un po di di panico alla gente comunque va tutta la nostra energia sì sì ma se vedete qui non sono da solo ci sono anime autodeterminate e non ce ne sono tanti che vi salutano eccoci qua ci sono sia autodeterminati che non che stanno seguendo tutto in diretta proprio anche qua ciao sono pina ma qualcuno sta registrando con un telefono magari vocale nessuno io qui io non posso non riesco a registrare io ma se la zoom e parlo qua probabilmente rimarrà la zoom come io sto registrando comunque si lo so però non mi da tutto tempo eh sì beh certo capito dovrebbero stare a registrare tu cerca di inquadrarlo e mi raccomando inquadrare chi? il facente funzioni ah sì sì e digli che qui siamo noi scusa hanno bloccato il cofano tengono aperto il cofano e hanno bloccato non permettono di abbassarlo devo fare delle domande allora io volevo solo comunicarle che lei quello che sta facendo è in diretta ed è pubblico perfetto io le chiedo sui verbali e il coce della strada lei vuole dichiarare qualcosa? allora io sono in giurisdizione superiore come uomo vivo a chi si sta rivolgendo io non le ho chiesto questo io le ho fatte una domanda allora non vuole dichiarare qualcosa? non sei tu quello Claudio non sono io quello a cui lei deve fare le domande ah ok va bene quindi dichiara nulla su questi verbali io ho detto che non posso dichiare nulla perché non posso non sono io quello a cui deve fare le domande bravissimo posso dire una cosa Claudio ieri sono stata fermata dai carabinieri con tanto di vita mi hanno chiesto l'universal pass cioè mi hanno chiesto documenti cosa gli ho dato l'universal pass poi mi hanno chiesto mi hanno detto ma cos'è questo un documento, solite cose eccetera a un certo punto sono state a fare tutta una serie di telefonate sono arrivati con il verbale perché non avevo patente e libretto anche se gli avevo dato la fotocopia del libretto annullata con tutta la dichiarazione ok di donna autodeterminata in altra giurisdizione eccetera sono tornati restituindomi tutto e dicendomi mi dispiace che questo documento non sia ancora accettato in Italia e si sono scusati hanno tentato di farmi verbale io ho detto che non firmavo quel verbale se non sotto costrizione e ho detto va bene allora non glielo diamo e se ne sono andati perché non sono io quella io ho risposto semplicemente non sono io quella quella è la finzione giuridica e io non posso firmare come finzione giuridica perché sono in altra giurisdizione va bene arrivederci Claudio chiedi se conoscono se conoscono la frode del nome legale guarda anche la dico se lo sa sono qui dalle 4 e mezza ho parlato già non so con quanti di loro ma quelli che sono un po' più su proprio non vogliono neanche toccare la carta vogliono solo avere ragione e comportarsi di conseguenza non hanno voglia di ascoltare nulla un solo di loro ha accettato di piacchierare un po' ma gli altri assolutamente non hanno non c'è stato modo di dirgli nulla a loro assolutamente per favore io guardate qui guardate qui che cosa ho qua ragazzi non posso fare il controllore qua per cortesia se siete autodeterminati chiudetevi i microfoni parlate e chiudete perché io ho messo lui fissato e non vedo chi entra ok io gli ho dato un sacco di carte compresa questa che è il documento della SEC dove c'è Italy Republic of hanno detto che è una fotocopia quindi non vale nulla e quindi Claudio è difficile perdere il potere per loro sono abituati è quello che gli ho detto quindi non le vogliono toccare i nostri documenti perché lo sanno il significato glielo stai notificando esatto e gli ho detto all'unico che ha parlato con me gli ho detto questa cosa fino a prima non sapevi nulla oggi che sei stato informato sei complice di quello che sta succedendo e anche responsabilità illimitata assolutamente esatto personale illimitata bravo grazie complimenti per cui risponderanno di sequestro di uomo vivo ribadiscilo questa cosa perché stanno tenendo troppo tempo per loro è un gioco sapete per loro è un semplice gioco non hanno non non interessa sono sono completamente impermeabili sono proprio costruiti così sono costruiti così ma io gli ho detto che poi quando questa cosa verrà fuori sarà bene anche per loro digli che risponderanno in energia energia significa salute sì 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 ma io questo questo lo so diciamo che ci sono stati come l'altra volta ci sono stati veramente delle azioni di violenza psicologica eravamo in due io e la signora Rosa che è una mia amica che ha anche una certa età per cui però ha una tempra impeccabile c'erano dieci poliziotti tutti qua bussavano sul finestrino apre che le viene male cioè sono sono veramente tarati per imbrogliare per truffare sono proprio nati per questo è difficile interagire con loro quando sono così chiusi solo questo mi viene da dire no no Claudio il loro intento è solo evocativamente portati con le cani prego loro in pratica stanno facendo tutto per fare sento molto basso mi dovete perdonare ma ha tre rumori di fondo non si sente no scusa l'hai detto che l'universal pass è stato accettato dalla guardia di finanza dove è stata depositata una denuncia del popolo si ha detto che non interessa se il documento di paperino perché l'abbiamo comprato da qualche parte quindi non vale niente cito le parole questo è un documento di paperino allora se è così lo prendesse e ti denunciasse perché non lo fa? non lo fa perché sono in questo momento si stanno affigliando alla questione della targa e niente di più e quindi la questione per loro è proprio quella di questa azione quella delle targhe per cui è proprio quello il centro che in questo momento sarà non visibile di più e quindi dal mio punto di vista assolutamente come posso dire in energia che è il prossimo passo da fare un po' per tutti a meno chi se la sente perché ovviamente questi sono anche i risvolti della medaglia tenete presente che sono tratto dalla Croazia da due pochi giorni fa e ho passato anche un confine presidiato dall'esercito in assetto da guerra perché avevano i mitragliatori spianati ed erano i tre militari con i mitragliatori che controllavano le automobili non la polizia la polizia era in seconda lina e non è stato detto nulla quindi credo che qui sia successo un po' quello che mi capita ogni tanto è di prendere qualche anima più frustrata delle altre che vuole far vedere il proprio potere ai suoi sottoposti visto che qui sul confine la maggior parte sono giovanissime record che probabilmente sono arrivate qui l'altro ieri e ti volevo dire anche gli hai fatto notare che sono arrivate le pecca no ho visto su coopera che avete dato le pecca io vi ringrazio tutti tutti quelli che mi danno sostegno in tutti i modi quindi sono vi ringrazio dal profondo le pecca ci sono io attendo hanno detto che dovrebbe venire anche un magistrato io spero che venga perché vuol dire essere avere direttamente l'interlocutore con cui con cui interagire è quello principale perché questi qui sono sono dei soggetti intermedi che si che si che si ergono a giudici sulla strada semplicemente perché hanno una circolare perché hanno hanno ricevuto chissà che cosa insomma quindi io mi auguro che arrivi qualcuno di più in alto per poter interagire diciamo con dialettica equivalente per il momento non posso che ringraziarti a nome di tutti per la consuetudine che stai facendo e sono sicura che anche questi facenti funzioni si stanno adoperando per fare consuetudine vedrai sarà l'inizio soltanto l'inizio perché poi lo faremo tutti questo preparali magari e ringraziali sì sì ma infatti io al più al più agguerito infatti ho detto guarda che un giorno diventeremo amici mi ha guardato con una faccia un po' così magari non è ancora convinto ma io lo so che sarà così Claudio ti voglio ringraziare anche io e penso parlo per tutti e ti voglio dire a tutti anche che quando dicono questi sono documenti vabbè l'avete scaricato da internet me lo metta per iscritto poi magari amici si diventiamo dopo ok sì 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 ma la mia era una questione più energetica non era una questione di burocrazia no ma io lo so che tu sei bravo ma lo dico per magari chi gli può sfuggire questo particolare quando dici questa frase cambia tutto perché loro non lo possono mettere per iscritto eh lo so è venuto è venuto il funzionario avvocato che non sapeva neanche cos'è l'articolo 6 del codice civile neanche del 494 ha detto ha detto che lui è avvocato fantastico quindi sa il codice civile cosa dice per quanto riguarda il nome no lui è avvocato come tu sei paperino ma sì io paperino non lo tirerei in mezzo in questo momento perché proprio non ha fatto nulla né a noi né a loro però si dimostrano veramente nella loro anima aggressiva il potere non ha bisogno di leggi per fare le cose buone il potere ha bisogno di leggi per fare la violenza punto non c'è altra spiegazione perché io non ho fatto assolutamente nulla di sconveniente per nessuno non ho messo in pericolo un anno non ho messo in pericolo nessuno eppure mi trattano come il peggiore dei delinquenti ma lo sono alla luce perché sto mettendo in luce proprio quello che è il loro limite il loro limite Claudio scusami vorrei fare vorrei farti una domanda non credi di essere stato seguito e che questo fermo sia stato programmatico no 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 assolutamente ve lo posso assicurare che no perché perché sono tutte cose che noi qua sul confine a Gorizia abbiamo un sacco di come dire di polizia da mesi ormai si sono stanziati qui ormai hanno rimesso le casette hanno rimesso tutto adesso vediamo se si stanno muovendo di nuovo adesso vediamo cosa dicono comunque non c'è nessuna nessuna questione di chi non segue perché qua io transito qui io transito qui costantemente l'ho fatto avanti indietro la Croazia prego tutto a posto con le targhe e adesso si si ma questa cosa qui questa cosa qui se dovete parlare però parlate un po' più ad alta voce perché qui tra rumori di fondo e tutto non riesco a sentirmi tanto bene a volte franci c'è il microfono aperto chiedo scusa sì vi sarei grata visto che non voglio stare qua a controllare che magari quando parlate alzate la mano così si vede perché a volte non vedo chi ha il microfono aperto io sto cercando di chiudere tutti quelli che sono aperti però sarebbe carino se non lo faceste voi sì io l'ho già detto che sono da sei mesi che transito per di qua io e questa cosa qua come dire è risaputa gli ho già detto sono passato cento volte per di qua e che il magistrato gli ho fatto vedere anche la delibera di dissequestro della macchina all'epoca di febbraio firmata dal prefetto sapete cosa mi hanno detto è una fotocopia se non ha originale non vale ecco ha capito allora gli ho detto visto che lei ha giurisdizione suomo vivo mi porti la legge scritta in originale qua e poi la c'è e il magistrato ci ha detto al telefono per quanto mi riguarda poteva parlare con sua suocera gli ho risposto non so chi sia il magistrato lei era al telefono con un tizio X a parlare di quelle cose sue cioè due metri e due misure questo ormai è il loro modo di agire ma questo io l'ho capito il sistema è qui perché noi siamo nemici del sistema è scritto nero su bianco non siamo non sono qui per la nostra sicurezza in nessun caso Ennio vuoi dire qualcosa? ma sì che riguardo allora io sono di Codroipo quindi sono stessa regione di Claudio diciamo che un mezzo e mezzo fa mi hanno fermato i carabinieri di Codroipo e comunque ho ricevuto lo stesso trattamento che ha ricevuto Claudio per cui non hanno voluto sapere niente hanno detto di avere giurisdizione su uomo vivo senza dimostrare niente gli ho detto gli ho mostrato volevo mostrargli i documenti la carta eccetera non hanno voluto vedere niente sono così loro sono mercenari sbruffoni trepotenti tutto tranne che esseri umani io non so come 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 ne usciremo da questa situazione perché puoi emettere tutti i documenti che vuoi nessuno ti caga i poliziotti sono venduti confermo quello che dice Claudio sono poliziotti carabinieri eccetera è tutta gente venduta gente che è convinta che riceve i soldi perché li paga li pagano i cittadini con le tasse ma dei cittadini non gliene fotte un cazzo e niente tutto quello che di male si può dire di quella gente lì è valido basta bene io comunque questa sera se posso chiedervi al di là dei miei commenti è solo energie positive perché sappiamo già come agiscono sappiamo già come sono sì beh senz'altro e di conseguenza e di conseguenza e di conseguenza non ha non ha significato ribadire cose che già sappiamo cerchiamo di portare l'energia dove noi siamo dove noi siamo sì volevo solo confermare quello che dicevi di loro non ha certo grazie prego grazie ciao Claudio sono Iuri oh buonasera Iuri ciao solo per dire che ci sono anch'io hai visto la manetta sì ma siamo tutti qua guarda sono molto molto colpito positivamente da un sacco di amici anime vicine sia all'autodeterminazione che a me personalmente che sono qua e per me conta tantissimo oltre a tutti voi che sapete io sono da poco ma insomma vi sento molto molto vicini quindi vi ringrazio perché è una cosa molto importante grazie a te sei un grande scusami Claudio ma loro hanno capito che sono tutti per te gli autodeterminati che stanno legati sì sì lo sanno infatti infatti interagiscono parlano vedono no tenete anche una cosa io prima così giusto come nota quando si sono comportati molto aggressivamente all'inizio nel senso di tirarmi fuori dalla macchina io ho anche chiamato il 112 per chiedere un intervento di una volante dei carabinieri visto che ero stato sequestrato dalla polizia hanno preso la comunicazione ma non si sono fatti vedere sì perché lo sanno che non possono intervenire vorrebbero ma non possono intervenire perché se no vanno in contrasto tra di loro lo so ma io l'ho fatto apposta hai fatto bene comunque vedete se riesci ad entrare in empatia con qualcuno magari sai comincia a parlarci un po' il problema che vi dico qui secondo me è successo che un soggetto qui se è un po' legato sul fatto personale e quindi in questo momento non essendo proprio l'ultimo della loro gerarchia deve forse un po' salvare la faccia boh per la mia ipotesi in questo momento ha messo in moto tutta questa cosa qua proprio per questa ragione secondo me per andare a dimostrare che lui sa tutto perché quelle parole che lui mi ha già detto lui sa tutto non ha bisogno di leggere niente lui sa tutto e sa anche di OPT allora sa anche di OPT allora no no ma lui quelle cose lì sono cose sono documenti di paperina non contano niente quelli se non sono certificati da qualcuno e autografati da qualcuno che lui riconosce non valgono nulla sono citazioni del suo del suo essere quindi non è una mia invenzione in questo momento è un riportare magari ripeto non 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 preciso ma il senso è quello aggiungo che in una in un momento in cui diciamo si è stabilito che loro hanno posizionato le loro macchine una davanti come la potete vedere ok una è qua proprio a mezzo centimetro dal mio cofano per cui se io la muovo li tocco e quindi li aggredisco poi c'è un'altra dietro messa allo stesso modo nel momento in cui nel momento in cui ho detto siamo a bocce ferme le macchine sono posizionate io posso andare a casa ma la macchina no questo è il senso mi ha detto di sì ovviamente gli ho chiesto di conversare qualche minuto e mi ha assolutamente cioè istantaneamente detto no io no gli ho fatto ma guardi che lei sta rivestendo un ruolo che è molto simile a quello che avevano i capò in una triste epoca passata in cui alcuni carcerati alcuni prigionieri erano incaricati di di controllare altri prigionieri ma alla fine facevano anche loro la fine mi ha accusato che gli ho dato del capò e immediatamente ha suggerito una sua subordinata di annotare di annotare che faranno un verbale che adesso lui chissà cosa mi farà perché ho detto che è un capò ho dato per dirvi il tenore delle delle dell'apertura mentale per dire ti sto cercando di spiegare una cosa che non vuoi sentire comunque aspettano loro il magistrato ma non lo so cosa stanno aspettando adesso stanno facendo i verbali stanno facendo delle cose non ho ben capito io spero che qui stiano stiano filmando e quindi stiano facendo diciamo che si stanno un po' agitando hanno messo i giubbottini qui della polizia prima erano in borghese adesso si stanno un po' stanno mettendo i guanti adesso in questo momento forse vogliono fare delle cose delle cose brutte hai abbastanza batteria nel telefono no 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 sì sì la batteria ce l'ho abbastanza io sì sì se volete ma se riescono ma non che vengano qua però solo chiamateli se volete stanno stanno adesso state qua rosa 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 no 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 questo qua questo qua si è messo in guano guadio scusa ma qualcuno del popolo sta facendo è in zoom anche anche loro sì sono qua sono qua sì ma si stanno rivolgono un po' la telecamera verso facendo io non so io non so chi c'è qua di quelli che sono qua che sono in zoom io adesso devo chiedere a loro se possono aprire le telecamere e filmare in zoom altrimenti gli giriamo il link gli ho girato io il link sei in zoom apri la telecamera ciao marina apri la telecamera così ti mettono in zoom in diretta che ti viene e poi lo fisso così lo si può sei in zoom non sei in zoom adesso sto via ok entro e firma quello che succede così lo vedo in diretta se puoi poi mi dici come si chiama che così lo fisso insieme a te e così siete fissati Marina Marizza tu no che nome sì come sta entrando adesso penso come Marina Marizza l'ho vista l'ho vista l'ho vista perfetto ciao aspetta che ti fisso se vuoi aprire il microfono forse meglio e anche alzare la mano se riesci e poi adesso adesso deve aver funzionato non vi vedo più dove siete andati quindi sono Marina Marizza donna Buonasera 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 Ciao Marina Ciao Marina alza la mano se puoi almeno così sono tutte e due vicine Ciao Marina Ciao ragazzi è una serata un po' impegnativa dai perché li stiamo facendo lavorare e niente qui è tutto fermo bloccato stanno contemplando noi abbiamo detto che non abbiamo problemi a dare nomi cognomi con tanto di documento valido e loro non vogliono darci un loro documento non vogliono darci il loro connotato stanno vociferando uno di loro si è messo i guanti come se volesse fare un intervento a non si sa cosa hanno tenuto con la forza come vi avrà già detto Claudio il bagagliaio aperto dicendo che per la sicurezza non si sa di cosa perché abbiamo detto che le cose che ci sono dentro non sono assolutamente pericolose e adesso continuo a filmarvi anch'io buona serata e buona visione bravo grazie Marina grazie Marina grazie Marina Claudio ti sponi di far chiudere il bagagliaio perché se lo vogliono mantenere aperte perché hanno in mente qualcosa glielo glielo già detto ma fanno orecchie da mercante adesso glielo chiedo di nuovo vediamo Claudio se no non riesci tu a chiudere e bloccare perché dovrei scendere dalla macchina dovrei scendere dalla macchina chiudo non lasciare i barchi dietro si vede che vi addestrano così a fissare negli occhi non so vuole raggiungere qualche testimonio a tutto sono molto serena in pace ecco ha distolto lo sguardo si vede che si è stancato e gli altri stanno contentando vociferando Claudio scusa digli che per problemi di saluti ti viene il vento alle spalle digli di chiudere il bagagliaio per favore chiedeglielo per favore gli chiedo per favore se chiedono il bagagliaio glielo provo a chiedere ah io non glielo ancora chiedo gentilmente mi chiudi il bagagliaio per sicurezza qual è il pericolo no non è una risposta se c'è una legge che lo dice di chiudere il bagagliaio per quale sicurezza sì noi abbiamo riferito che loro vogliono per un motivo di sicurezza tenere il bagagliaio aperto ma noi abbiamo detto almeno io ho detto che non mi sento sicura con questi signori con tutte queste pistole che ci stanno osservando in questo modo minaccioso lo direi no e allora niente vi faccio vedere le immagini è inutile che gli chiedi la legge che dispone infatti non la stanno perché non mi hanno risposto in base a che legge agiscono di autorità di autorità comunque qui ci sono dei testimoni che vedono che nel bagagliaio non c'è nulla sì no c'è qualcosina ma di vuoto assolutamente vuoto esatto nulla di pericoloso eh l'abbiamo detto lo possono vedere anche loro ma agiscono in questo modo e siamo qui ad attendere non so che decidano di chiamare i loro superiori giusto Claudio ma sicuramente le stanno le stanno già sentendo i loro superiori stanno aspettando e forse è proprio questa la pressione psicologica ah ok beh io l'ho filmato che si mettevano i guanti in un modo molto plateale secondo me hanno capito che hanno preso un granchio ecco perché aspettano hai ragione Eugenio perché lui gira con le tardi sì sì Rosa ha proposto di andare dai carabinieri di persona perché se sono già stati chiamati ma non c'ho pensavo è una ragazza vede il telefono ma sono vado tutti marina chiudica siamo in 60 wow che figa la prima volta che sono nella chat in 60 siamo è finito eh ragazzi 60 testimoni più noi adesso scusami Claudio se loro devono lavorare no perché stanno facendo il loro lavoro se sono impegnati con te perdono tempo che lavoro fanno voi non siete di qui giusto non abitate a Comizia no qui siamo in un confine che extracomunitari di tutti i colori passano tutte le ore perciò invece di essere impegnati a sbrigare che ne so carte connotati di persone veramente che potrebbero essere pericolosi sono qui con persone che hanno presentato comunque connotati sanno con chi hanno a che fare e siamo qui li stipendiamo vedete in quanti che li stipendiamo ragazzi guardate quanti stipendi buttati là vedete ecco altri stipendi buttati là ecco ecco perché hanno preso il bilancio ecco perché hanno preso il bilancio perché non possono lavorare perché sennò il tempo che stanno perdendo con te avrebbero fatto altre multe a altra gente che a noi non ci interessa per carità ecco stanno perdendo tempo con te è molto coccolo il suo primo giorno di lavoro in provincia di Corizia vince benissimo questa storia vero? è bene sì pensa tu pensa tu Marina Marina fagli presente che lo stipendio lo stanno prendendo dal nostro fondo guardico eh sì penso lo sappiano già però lo sai che lo prendi dal nostro fondo corrente lo stipendio un po' dal suo un po' anche dal suo ma ragione eh sì ha ragione un po' del suo e un po' del nostro infatti diciamo che con questo ragazzo puoi dirci no 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 ok non può dirsi neanche lui nome cognome io speravo perché insomma è giovane ma Marina scusami visto che ti chiama Michele aspettando chissà cosa metti metti il video di Silver Nervuti e mettilo ho passato una macchina metti il video di Silver Nervuti non ce l'hai è stato girato in questi ultimi giorni che parla proprio a loro e allora facciamo uno show istruttivo perché è importante quello che dice Nervuti te lo giro non so c'è qualcuno che sa di cosa sto parlando si l'ho sentito l'altro giorno anche su facebook l'hanno messo è qui con me ma è incredibile potrebbero ascoltarlo visto che non hanno niente da fare ok appunto già che dobbiamo trascorrere del tempo ragazzi mi chiedono se avete ripetimi che qui c'è anche traffico di macchine sai non sento è Silver Nervuti è stato girato in coopera te l'hai? l'ultimo video sì adesso Luisa qui che è con noi ecco lo apre posso dire una cosa? sono Barbara posso dire una cosa? ti ho detto che 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 tanto che stiamo aspettando ci farà mi senti? perché sì non sono piena no maria maria mi senti? marina io sono Barbara sì ciao 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 bellissimo allora visto che c'è il paciente in funzione di vicino e suppongo che lui ci stia che intendo potete chiamare per favore i carabinieri che sono un corpo militare sì si stiamo chiamando chi li sta chiamando? chi li sta chiamando? si li stiamo già chiamando adesso vi filmo Rosa che sta chiamando i carabinieri esatto per favore filmala e in viva voce perché vogliamo sentire cosa dicono i carabinieri perché se no qui ci stanno poi l'incidente internazionale è una situazione i carabinieri ah lì la polizia li vicina con violenza e sono io 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 ho subito violenza qui mentre ero in macchina perciò a loro chi chi sono loro loro quali sarebbero non ho capito loro qual è l'oggetto la polizia che ha subito noi io subito la polizia sto dicendo questo perciò la situazione sta degenerando certo c'è la polizia siamo anche 10 no è irresponsabile quella cosa è irresponsabile ah hanno messo giù si mi hanno messo giù si rivolga responsabile hanno messo giù ragazzi hanno messo giù ragazzi si rivolga responsabile chi sta telefonando non so chi aspetta deve essere perché non è ok e niente le hanno buttato giù il telefono le hanno buttato giù il telefono questa è la situazione proverà a chiamare prego scusami gli comunichi visto che hanno buttato giù il telefono gli comunichi che ai poliziotti che sono all'intorno che c'è tutto è tutto registrato anche questo perché c'è un problema Houston ce ne sta più di uno di problema ma vero vedo il collega lì che sta buonasera buonasera e suppongo che non sia l'ufficiale più alto in grado no l'ufficiale più alto in grado è questo signore qui di spalle che non vuole che continua a telefonare però che continua a telefonare telefona telefona ma telefona vedi infatti responsabile mi scusi ci dovreste dare il nome o la matricola del responsabile del procedimento chiedo nome per contesti a loro ci devono dare nome e matricola del responsabile del procedimento chiaramente la sovranità dell'ordine allora glielo chiedi tu Barbara che te lo passo io lo chiedo io vediamo si aspetta che vengo dall'altra parte perché si ostina a darmi le spalle fino adesso mi provocava quello ma noi lo vediamo che ti dà le spalle si gira mi fa gli scherzetti buonasera buonasera è al telefono il signore è al telefono mi scusi ah non è al telefono buonasera allora io le sto parlando dalla sovranità dell'ordine della nazione avrei necessità immediata di avere il suo numero di matricola siamo tutto registrato quello che sta vedendo puoi levare la mano tranquillamente perché è già pubblico quindi forse semente ci dà il numero di matricola forse semente se il procuratore il prefetto che sia le ha dato un ordine glielo viene a dare in presenza perché sta di fronte a una nazione che non è né belligerante né tantomeno in guerra con la Italy Republic ma è in successione quindi c'è un problema di giurisdizione lei comprende benissimo cosa le sta dicendo e mi presento comunque io mi chiamo Barbara De Galletti con chi ho l'onore di parlare quindi non mi sta dando la matricola giusto? non mi sta dando la matricola è lei il più alto in grado? lei pensa che questo possa essere di aiuto poi in seguito il fatto che non parla? non è di aiuto non lo è lei lo sa perché perché lei di fronteggiare le leggi quelle vere non quelle della corporazione quelle che fangono l'energia vitale io non so se mi spiego di che cosa stiamo parlando perché non non ci guarda? cos'è? siamo pericolosi io le sono a distanza addirittura buonasera sempre lo sa è vero che dopo 20 minuti che lei mi tiene lì fermo un uomo lei lo sta trattenendo contro la sua volontà si chiama sequestro lei lo sa vero nella vostra giurisdizione come si chiama? fermo di identificazione si chiama fermo di identificazione ci sono nove testimoni più 60 online che le stanno dicendo chi è il signore se poi lei lo vuole identificare allora non stiamo parlando del problema della macchina del veicolo in questo momento sta bisvegliando al telefono che ha suonato o che così è un telefono radio ha suonato il telefono l'orecchia comincia da parlare sembra che un telefono radio la mano sul telefono guardate che qui c'è la vibrazione su dai 11 altri uomini e donne vivi tutti vivi chiaramente che stanno in ascolto quindi fate ascolto un po' di più dice Santa la macchina la macchina la più eccolo Barbara vorrebbero spostare la macchina loro che ci hanno bloccato ecco bravi bravissimi grazie ringraziali siamo molto gentili sono molto gentili sono molto gentili allora grazie noi le siamo molto grati scusate tranquillamente la macchina perché non c'è nessuno di pericoloso anzi è bene che voi abbiate appuntato in un file esterno ai vostri registri lo strumento con cui si posta l'uomo vivo Claudio in maniera da poter tranquillamente lasciarlo ritornare al suo dimora grazie 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 molto gentili qualsiasi verbale farete verrà poi contestato successivamente senza nessun problema date la palla bollente a chi ve la fa irresponsabilità a cadere addosso che lo sanno tutti eh dal presidente della presunta Italia Repubblica al vostro comandante di Stato adesso ci sono movimenti di macchine vediamo cosa hanno deciso ma per quale motivo tengono ancora aperto il cofano della macchina non permettono di chiuderlo Maria chiudilo avvicinati chiudilo chiudilo cosa chiudo scusa non permettono il cofano della macchina quella la nave non ti dimenticare hanno aperto la porta dietro della nave va chiuda soltanto soltanto che l'uomo e qui lo vedi hanno messo non il comandante ma questo simpatico ragazzo è veramente molto questo ragazzo che matricola che matricola guardi che quello che sta facendo non vi vedo Maria che deve chiudere il microfono Maria chiudi il microfono guarda che risponde no non si vede ecco dai primo giorno di lavoro la sua matricola cortesemente le sto parlando della sovranità dell'ordine una matricola una questo nome cognome nome anzi questo ragazzo non vorrebbe farlo e l'hanno messo qui perché lo deve fare questa è la responsabilità che gli danno non ce l'abbiamo con lei non ce l'abbiamo con te a lui l'hanno messo lo vedi che se ne vanno dov'è il carattretti dov'è sto carattretti quanto ci mette sto carattretti come mai non arriva sapete perché non arriva vero perché il prefetto vi manda avanti a voi e quest'ore pure pure quest'ore vi manda avanti perché vi manda avanti a voi hanno completamente chiuso l'accesso al confine hanno bloccato l'accesso al confine con la macchina banditi siamo che roba che roba mi ha detto che era un'identificazione Claudio non mi ha detto che era un problema di macchina ha detto che è un'identificazione si lo so vi faccio vedere molto interessante lo scenario è allora il confine è chiuso completamente vi faccio vedere la scena ok quella è la Slovenia si brava qui c'è l'Italia e qui tutti questi signori qui questo ragazzo che veramente lei sta entrando in una in una giurisdizione in territorio sovra giurisdizionale lo sa è entrato è come un'invasione questa non lo so se ti rende colpo è giovane non so una matricola guardate che questa roba è tutta registrata davanti a un qualsiasi magistrato vostro questa roba è reato reato l'hanno messo a lui in mezzo l'hanno messo a lui in mezzo è certo che l'hanno messo a lui in mezzo quanti anni fa carne da macello obbediscono scusano vent'anni si che bravi che coraggiosi coraggiosi perché loro danno le spalle tutti nessuno e chi mette la faccia e lui nell'esercizio della sua funzione la matricola è obbligato a darla la matricola non il nome il cognome ma la matricola e la situazione di provenienza loro due gli altri serbati hanno i guanti addosso che non si è capito per sé allora che no è certo che è già invasione stare sotto al portellone io l'ho già detto che sta invadendo un territorio extra giurisdizionale per lui quindi è come se lei adesso si è entrato nel territorio di un'altra nazione senza il dovuto consenso del custode del medico è armato è certo che è armato ti chiama infatti vedi i carabinieri non rispondono i militari i carabinieri Claudio chiamali tu i carabinieri chiamateli già dentro la macchina io li ho già chiamati e non mi hanno considerato li abbiamo chiamati carabinieri che tutto è registrato anche la chiamata non vengono non vengono no eh ripeti Claudio all'ingestimento devono venire ripeti chiamati non sono io quello che cercate gliel'ho già detto prima non sono io quello che cercate Marina alza la mano non sono io quello che cercate ve l'ho già detto prima e non sono io quello che cercate ho fatto giusto io in realtà tu sei registrata perché ho fissato tutti i due video ma per gli altri a volte non appare il tuo video perciò devi alzare la mano in realtà nella registrazione adesso ci chiedono i documenti a tutti noi e ci dicono di classificarci eh ragazzi come delinquenti adesso ci stanno chiedendo i documenti dategli i documenti uno alla volta gli date l'universal pass aspetta ma perché devono l'audio lascialo stare aspetta aspetta chi usa la forza ma ma proprio ma io 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 ragazzi lascialo stare lascialo stare questo sarebbe per identificarlo per identificarlo la signora andate via lasciatelo in pace fatelo andare via vi dovete fermare lasciatelo in pace dovete lasciarlo stare tornate a casa andate via andate via andate andate via andate via andate via bravi quello che insegnate ai vostri figli suona il clacson metti in allarme il mezzo mondo suona il clacson deficiente lascia non c'è la chiave ma non c'è la chiave una schiena una schiena la schiena una schiena non c'è la chiave ma non c'è la chiave anche la chiave giure le mani Giu le mani è come fosse vostro figlio Giu le mani Giu le mani Giu le mani lasciale stare se vuole fare qualcosa Giu le mani Giu le mani tutto registrato tutto registrato anche questo nero non fa niente non fa niente vi state mostrando così davanti ai vostri figli con quale coscienza con quale coscienza con quale coscienza con quale coscienza allora date la matricola al governo italiano fate male siete tutti aiutate qua vi vedono i vostri figli siamo qui siamo buoni e la signora Rosa rimane lì per strada no ma veramente ma guarda l'hanno tirato fuori con violenza Marina riesci a seguirli a registrare un attimo per quelli a situazione come avete visto è drammatica devi riprenderli Marina devi riprendere all'oro no a te devi riprenderli sì 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 è un'attesa aspetta aspetta devi riprendere all'oro magari chiama 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 cosa gli hanno fatto cosa gli hanno fatto cosa gli hanno fatto cosa gli hanno fatto che non reagisce gli hanno messo ma perché non reagisce vergognatevi criminali il vostro padre quello è vostro padre invece abbiamo fatto in avvento veramente noi abbiamo dovuto no 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 siete solo dei delinquenti legalizzati vergognatevi con quale coscienza andate a dormire stanotte non hanno coscienza quella gente lì sono dei robot per favore fare una meditazione lanciammo il pensiero e lanciammo solo io vi continuo a filmare in confusione Claudio è a terra svenuto dentro la polizia i carabinieri hanno chiamato l'ambulanza l'opo ho sentito io la personata adesso vi filmo la situazione ma cosa gli hanno fatto hanno picchiato avete fatto un danno invagabile e tutto questo per identificare senza identificare assolutamente l'onore guardi sono un po' non mi spiega non mi spiega non mi spiega non mi spiega lo penso anche lei sono molto il figlio chiudete i microfoni con lì si sentiamo Marina allora ora vediamo come la vedetta se è un abbraccio e vi paghiamo anche gli stipendi vergogna, vergogna, vergogna non pensavo arrivavate a questi livelli veramente violate le vostre leggi la responsabilità è vostra è tutta loro abbiamo tutto il turno di tutti i lavoratori si può sedere dopo che l'avete tenuta tutto questo tempo in piedi avete agito avete agito tutto in onestà tutto per la nostra difesa dov'è? dov'è? ah ok grazie Marina chiedi di Claudio come sta Claudio? Claudio non lo vedete da qui perché ci sono i vetri Claudio è disteso era sviluppo guarda non so cosa gli hanno fatto perché erano in tanti attorno e adesso stanno parlando con lui lui è disteso perché non ha la forza di stare in piedi i carabinieri no scusa poliziotti poliziotti stanno nascondendo non mi lasciano riprendere del tutto però insomma abbiamo tante riprese visi e quant'altro è tutto ripreso Claudio purtroppo non sta bene perché è disteso sul pavimento ad occhi chiusi e sta eh sì ragazzi pagheranno in energia pagheranno in energia tutti quanti bisogno di loro eh sì si è disto con i vaccini non ha anche posto con lei ma cosa hanno fatto con lei è riuscita a vedere Claudio dai vetri siamo uniti sì si vede eh hanno fatto quello che avevano in mente perciò sequestrato la macchina con questi modi così violenti così allucinanti ma questa donna che sta parlando cosa che sta dicendo aprite l'audio di Nimbus 71 per favore aprite l'audio ma da Mocca è stato riconosciuto se qui era un'onoranza no non la riprendo è in diretta nelle chat è in diretta nelle chat eh perché e l'avete fatta a grado a dei pubblici ufficiali sta aggiendo in un'ora questa donna non vuole essere ripresa perché si vergogna io sono cosa che si vergogna deve vergognarsi cosa gli avete fatto a Claudio dove che sono ma se lo facessero tuo figlio come ti sentiretti aprite l'audio del telefono di Claudio Nimbus 71 non si può aprire l'audio lo deve fare lui lui lo hanno lo hanno sequestrato dentro e non so cosa gli hanno fatto hanno tolto hanno tolto hanno tolto il cellulare ragazzi ne ha lasciato in macchina ragazzi siamo tantissimi tantissimi testimoni eh tantissimi meglio in ospedale a questo punto che non assolutamente infatti hanno chiamato l'ambulanza e sicuramente avrò bisogno di soccorsi saremo lì vicino a lui ma non l'ospedale l'ospedale è pericoloso è meglio Rescue se avete dei fiori di bacca non portate in ospedale no Claudio sta bene sta bene niente di ambulanza non si riesce ad aprire l'audio perché la videocamera funziona di Claudio possiamo aprirlo noi Elena non posso aprirlo io lo deve aprire lui se lui non può perché è stato per terra non può ho capito ma a Claudio in questo momento è disteso e bisogna capire cosa gli hanno sequestrato cosa no noi non possiamo entrare c'è un'entrata c'è un vetro e con la forza si sono appropriati di lui adesso stanno trasportando con il caro attrezzi la sua macchina perché ovviamente la sua macchina non è più custodita con la forza in tanti tantissimi di loro hanno fatto questa cosa ecco stanno sequestrando la sua macchina questa è la scena della macchina questa è la scena del confine bloccato questi sono i carabinieri c'è qualcuno c'è qualcuno che ha la volontà di andare vicino efficienti funzioni e chiedere il telefono di Claudio non chiedere vi da appena chiesto appena chiesto appena chiesto non permettano non dovete per favore date gli ordini prego ma non serve niente a parlare con un hard disk quello è un hard disk l'unica cosa che bisogna fare è fare una nota di addebito ad ognuno di questi signori 10 di a ognuno di questi signori una bella nota di addebito è l'unico modo in cui si può parlare no qui c'è Claudio che sta parlando però se possono accendere Claudio sta bene sta bene Claudio non te rispondono eh no non possono rispondere perché non abbiano stabilito un TSO eh no prego non abbiano deciso un TSO ma qua stanno disvenivando stanno facendo tutto in anonimato noi con senso negato con senso negato con senso negato per favore senso negato senso negato senso negato non vi dimentica siete in totale disonore e l'universo vi viene a beccare e vi viene a far pagare questa porcheria schifosa che state commettendo energie positive energie positive chiudete la cazzo concordo concordo chiudete l'audio chiudete l'audio chiudete l'audio ragazzi io non posso stare qua a fare il controllore ognuno ha una determinazione ora è il suo chiudo io questo cosa faccio come faccio lascialo 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 aperto se volete chiudere i microfoni porca miseria ma lo capite o no eh ragazzi siamo un po' agitati eh ma no marina non tu non tu si parla di quelli in zoom gli altri che sono con me devono chiuderli se l'ho chiusa no no più che altro quelli che sono in zoom voi state tranquilli quelli in presente devono tenerli aperti come eh scusate eh rosa apri il microfono anche tu che così quelli che sono in presenza possiamo ascoltarli non fatelo andare in ospedale fate di tutto per non farlo andare in ospedale eh qualcuno di voi può chiamare di nuovo l'ambulanza adesso l'ambulanza è l'ultimo posto è pericoloso no ho capito ho capito che avete detto di chiamare l'ambulanza no no assolutamente no ok 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 va bene va bene allora dato che i poliziotti hanno chiamato l'ambulanza eh cosa facciamo noi testimoni stiamo un po' in silenzio non bisogna non bisogna andare via con l'ambulanza ragazzi questo è pericoloso veramente calma torniamo nelle frequenze giuste stiamo un po' in silenzio vediamo quello che succede il nostro amico dentro ha la forza ha tutta la nostra ragazzi qui l'ambulanza l'hanno chiamata questo è eh lasciamo andare gli eventi stiamo calmi bene Michele l'ambulanza l'ambulanza è un pericolo anche a Cristian gli volevano fare il TSO quando ha avuto questo problema ragazzi stiamo stiamo veramente sul pezzo l'ambulanza è pericolosa chiaro quindi se avete dei rimedi naturali rescue arnica o qualcosa del genere è meglio niente ambulanza perché a Cristian la testimonianza ti interrompo ti interrompo perché l'hanno chiamata i poliziotti l'ambulanza eh ma questo è proprio per quello che è pericoloso ragazzi è ok ma l'hanno chiamata e lo porteranno via lo hanno sequestrato non fateglielo portare via non fateglielo portare via fate schermo non fateglielo portare via ok facciamo schermo qualcuno lo deve seguire perché è pericoloso ok ok mettetevi davanti all'ambulanza imbeditegli ma qualcuno deve andare con lui nell'ambulanza non possiamo farlo andare l'ambulanza no non ci deve nemmeno salire il personale dell'ambulanza dovete dire chiaro e netto che non è lui quello che stanno cercando esatto esatto è pericoloso non deve essere Claudio sta bene Claudio è disteso a terra ma sta bene sta bene sta facendo un po' quello che deve fare ma è cosciente Claudio adesso in questo momento si lo vedo molto provato e allora lui può negare il consenso di andare in ambulanza è solo lui che può farlo esatto voi non potete fare niente è lui che deve dire no io non ci vado io sto bene e basta perché altrimenti lo caricano esatto è pericoloso ragazzi deve essere lui a dire no io non salgo non ho niente sto bene deve riprendersi un attimo e fare l'ultimo sforzo perché altrimenti va a finire male va bene scusate se sono intervenuta così va bene adesso Claudio è disteso dentro non so quanto sarà in grado di parlare spero di sì spero di sì perché è provato e quando dovesse passare l'ambulanza perché l'hanno chiamata gli chiederò se può negare il consenso di andare in ambulanza direttamente lui perché tanto da lì dentro a fuori il cellulare di Claudio ecco chiediamoci di Claudio chiediamoci di Claudio ragazzi stiamo calmi in attimo stiamo calmi vediamo cosa succede ecco gli stanno dando il suo cellulare adesso Claudio non vogliono farci vedere ma insomma Claudio sta bene ha preso il cellulare tutto a posto perciò ecco Claudio ha il suo cellulare in mano almeno sembra tantissimi testimoni di quello che è successo hanno fatto una cazzata grossa la macchina la stanno portando via la macchina sì la macchina è già messa sul carro trezzi e la stanno portando via come farà lui ad andare a casa? noi lo accompagniamo volentieri anche perché sarebbe bello che insomma con gli uomini e le donne del popolo prego prego cosa Barbara? ha detto che la ha detto che andrà a casa con gli uomini e le donne del popolo che sono lì sì soltanto che vedi questi due signori in piedi scusate scusate suggerisco di visualizzare che lo lasciano andare senza problemi inviare energia liberatoria è molto meglio che il biasimo è la mia opinione visualizziamo che lo lasciano andare perché ha la forza per farlo ed c'è l'energia per lasciarlo andare grazie sì stiamo in silenzio sono d'accordo e con cui non ci siamo i pensieri sì secondo me presto capiranno che hanno esagerato e che non c'era nessun motivo di fare questa forzatura hanno preso i nostri documenti lui è no poi lì hanno preso la macchina che loro volevano che altro c'è bisogno adesso di fare giusto si dovete rispare però al carattrezzi che lui è responsabilità illimitato cosa no? ma stavo parlato con te e ha preso ma voi la vedete Marina vedete lo schermo di Marina perché ecco ora sì io ragazzi sono qua ovviamente sto riprendendo e la scena di Claudio è questo è tutto fissato Barbara quindi rimane il suo schermo nella registrazione comunque è entrata la polizia scientifica c'era un tipo che aveva ascoltate l'ascolti la scusi la scusi da voi che avete giurato di proteggerci questo ci serve l'acqua se la prendiamo da solito sì c'è uno con la maglia della polizia scientifica esatto guardami laggiù chiudete i microfoni Claudio è disteso dentro io spero mi auguro che stia bene che stia riprendendo le forze sì dai Claudio è un colosso su vuoi che questa cosa lo fermi va bene va bene tutta Italia tutta Italia si 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 è proprio la crema della crema c'è un colosso c'è un colosso c'è un colosso grazie allora il signore sta bene può venire via con noi no non può venire via con noi ma sta benissimo sì però lui gli dà il consenso di essere portato via con l'ambulanza gli ha detto di sì e cosa fate a tutela del signore abbiamo chiamato un'ambulanza e anche tutte la vostra se avete bisogno però il signore è in grado di decidere di andare o non andare in ambulanza quando sarà il momento glielo chiediamo se può decidere o non per ora non lamenta alcun dolore nessuna ferita perfetto allora deciderà lui se andare o non andare ovviamente come tutti i cittadini italiani non è un cittadino avete sbagliato non è un cittadino è un uomo vivo non è un cittadino è un uomo vivo eh questo è il grosso orrore che fate ragazzi è un uomo vivo è molto va bene mi può dire se lui è in grado di parlare se può rispondere silenzio assoluto beh 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 qui chiedevano perché l'hanno sequestrato se il problema è solo la macchina perché lo tengo lì magari glielo puoi chiedere Marina io non so i loro nomi non so se qualcuno vuole rispondere perché sembra scusi ma perché l'avete sequestrato? non abbiamo capito perché perché la macchina poi è stata portata via non ci rispondono no peccato peccato perché era interessante sapere in base a che legge prova con un altro prova con tutti vediamo chiedi a quelli della porta mi hanno già fatto scena muta ma forse la signora mi dirà perché lo avete chiedi di parlare di parlare con il più alto in grado in quel momento lì presente il più alto in grado purtroppo è stato quello molto accanito che se non sbaglio lì ha messo le mani addosso vero? è stato proprio lui quello responsabile di averli messo dalle spalle sì è mancato poco che veramente lo spruzzasse è stato lui a mandarlo però forse questo signore mi sa di graduato aspetti un attimo questo uomo va scusi mi chiedono mi chiedono perché lo avete sequestrato? io ho sequestrato si sequestra in Colombia si sequestra le persone a scopo di lucro noi non sequestriamo nessuno non andalo a caso perché adesso dobbiamo completare l'identificazione questa azione di forza come la giustificate? qual è l'uso della forza? questa azione di forza come la giustifica lei? non è un sequestro? non è un reato anche per la vostra legge? visto che non ha fatto niente? e visto che non è cittadino? è vero con tutto rispetto è sceso è sceso è sceso no è vero no è un altro abbiamo filmato tutto io ho filmato tutti così voglio non andare per dietro ma perché? se il signore è qui perché volete andare per dietro? ma se non ci rispondete se non ci rispondono perché l'ambulanza carica direttamente Claudio da qui sono 5 metri perché devono andare sul retro della bottega? e allora hanno deciso così di andare sul retro ragazzi fate schieramento perché veramente qui potrebbe essere pericolosa la cosa secondo me poi c'è qualcuno che ha il telefono che qualcuno può telefonare a lui no perciò gli hanno sequestrato anche il telefono insomma dai credo che no che l'ha detto lui va bene va bene adesso vediamo se Claudio darà il consenso o meno per essere portato via e se sarà in grado di parlare ecco adesso Claudio sto parlando con immediatamente bloccate l'ambulanza subito è pericolosissimo ha ragione tutti dietro l'ambulanza tutti davanti all'ambulanza però Claudio scusate fate vedere un attimino come si muovono dentro quello che sta succedendo dentro esatto non esagerate calma calma è lì Claudio giusto è lì succede andiamo avanti con il passetto per passetto è tutto registrato è tutto registrato l'anno che stiamo registrando ecco Claudio giustamente starà dicendo che non ha nessun problema per essere portato via conoscendolo perché vedo che sta parlando tranquillamente perciò dirà che non vorrà andare via da come vedo ecco dalle immagini e adesso sta parlando con quelli dell'ambulanza riuscite a vedere le immagini mie sì perfettamente perfettamente tutto registrato se è in primo piano cerca di avvicinarsi però per far capire bene cosa cosa sta succedendo dentro c'è il rischio che se va troppo vicino poi le chiudono così va andava benissimo ma cosa tocca fare semplicemente parli no Claudio è tranquillo sta parlando è disteso adesso non so se sarà in grado di alzarsi ma appena prende le forze credo lo farà lo vedo già più tranquillo rilassato ecco non possiamo sentire quello che dice perché purtroppo siamo chiusi qui fuori lui è chiuso dentro adesso gli stanno dando da leggere una carta quelli dell'ambulanza e la signorina sta firmando sta compilando una carta adesso vediamo se riusciamo ad avere le notizie di quello che vorrebbero fare di quello che faranno ma scusa tu riesci a capire se ha ancora sulle manette no 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 grazie no no adesso sta parlando tranquillamente con l'ambulanza dimmi se alzi la mano ti vedono tutti io ti vedo benissimo perché ho fissato il tuo video ma gli altri non ti vedono perché non hai la mano alzate devo alzare la mano questo ragazzi mi chiedete se riesci se no niente ci vedessi allora chi mi aiuta alzare la mano ho bisogno di l'importante che lo riprendi però se alzi la mano ti vedono tutti nel bollino altro forse no reazioni reazioni ragazzi parliamo con la buona ragazzi siamo anche senza occhiali serviate pazienza perfetto così è perfetto grazie vedete adesso gira pure ti vediamo perfettamente vi inquadro la situazione di Claudio che ecco il signore qui che entra in maglietta grigia è proprio quello che ha fatto non so che graduato è ma è uno dei più graduati c'è un funzionario che ha detto di essere il funzionario questo signore non so chi ha detto di essere quello con la maglia rosa e niente adesso stanno parlando con lui e vediamo che la situazione sembra si sia calmata che dai verrà a casa con le sue gambe tranquillamente l'hanno fatta grossa stasera se lo potevano evitare è un altro grossa ragazzi veramente siamo ancora allucinati di cosa possono arrivare a fare violano le loro leggi ma le violano in un modo pazzesco cioè veramente con tanti testimoni con la chat attiva siamo veramente alla frutta la frutta con le vessazioni stanno facendo di tutto per ma il bello è che non sanno la materia non sanno di cosa parlano almeno tantissimi qui con il costumino sì ma già il fatto che non rispondono già significano che sono in torto marcio perché ognuno di loro dovrebbe sapere quello che sta facendo stanno con le spalle no mandano avanti novellini a tenere i bagagliai aperti gli danno gli ordini con i ricatti e qui siamo non pensavamo che potessero arrivare a così tanto a quel signore che a quel faccente funzione che ha parlato prima che ti ha sorriso qual è un maresciallo quello deve sapere quello che sta facendo non è che non lo può sapere è un maresciallo ride sul tempo sì ha tanto da ridere però insomma sembra che Claudio sia stia bene che queste dell'ambulanza stanno compilando delle carte e sarà tranquillamente oh c'è anche una mia amica infermiera ok non posso parlare non posso parlare sono marina sono marina sono marina è una dell'ambulanza ma perché oltre il vetro non so se mi riconosce quella bionda no quando è in servizio sono un po' più contenute ecco adesso stanno aspettando di capire grazie grazie marina si vede benissimo adesso vediamo quando finiscono i turni avranno gli incubi stanotte quando vanno a dormire prego quando andranno a dormire avranno gli incubi stanotte tutti quanti io penso di sì penso di sì perché loro non sanno a cosa vanno incontro adesso tutti veramente non ci hanno voluto dare i nomi si sono nascosti dalle telecamere ma li abbiamo filmati tutti sappiamo i loro turni di lavoro sappiamo tutto Claudio giustamente sta dicendo sicuramente che non vuole andare in ambulanza insomma vi rassicuro su questo e sa il fatto suo perciò adesso sicuramente Claudio con le sue gambe verrà a casa sta leggendo il foglio è che Samantha ho i capelli lunghi non mi conosce siamo in 69 69 bel numero adesso la polizia sta parlando con quelli dell'ambulanza e non so che decisioni possono prendersi lui nega il consenso di andare in ambulanza sinceramente è un problema loro non di Claudio perciò adesso Claudio ha rimesso la carta che gli hanno dato quelli dell'ambulanza via e vediamo se vogliono stare qui ancora tanto perché insomma non c'è molto da dire ma scusa ma perché non puoi entrare e parlare con Claudio anche per nessuno ha il coraggio di rispondere purtroppo qui fuori sono rimasti credo i meno graduati credo perché gli è arrivato l'ordine di facere io posso andare a parlare con Claudio chiedergli come sta chiedergli solo come sta per ora no tra un po' magari va bene le deve arrivare il comando che le dica che posso andare a chiedere come sta ok va bene allora ci siamo tanto sei bravissima prego bravissima dico sei bravissima autodeterminata c'è poco cosa dire ragazzi se si fa un percorso questo è questo è ma se uno di noi sta male in difficoltà lui ci aiuta tanto noi ci aiutiamo tanto fra noi e quando vediamo delle frodi nato di questo tipo non possiamo tacere non possiamo tacere perché qui è ora di finirla questo confine è veramente il covo dell'ostilità tanti di noi passiamo e si ostinano a non sapere le cose malgrado abbiano tutti i nostri documenti più di noi siamo passati tutti hanno i nostri documenti perciò sanno con chi hanno a che fare sanno però mettono dei novellini che non sanno l'ultima situazione ma adesso aspettiamo i graduati che vengono vicino e che rispondano di quello che stanno facendo che stanno facendo insomma dico se fosse Claudio e i carabinieri no scusa i poliziotti Claudio e i poliziotti se fosse invece c'è Claudio ci sono i poliziotti ci siamo noi presenti ci sono i filmati c'è tutta Italia che sta guardando perciò ragazzi adesso vediamo se possiamo parlare con Claudio Claudio sta facendo resistenza passiva prego Claudio sta facendo resistenza passiva infatti bravo così si sta riportando la piena e solo sapere se Claudio sta bene perché è disteso si muove scusi io posso la aspettiamo il signore sta benissimo è stato visitato non lamenta al punto l'ora al punto l'ora e allora non c'è motivo per cui li stia qui sequestrato vero? non c'è motivo per andare in ospedale lui ha deciso di andare all'ospedale siccome lui sta bene non c'è necessità di andare in ospedale ma chi ha deciso questo lei o Claudio? il signore l'hanno deciso loro sì perciò lui è responsabile e ha deciso di non andare all'ospedale perché sta bene sì è vero perché motivo lui non può venire fuori da questa struttura perché noi dobbiamo completare il nostro iter giuridico sì ok voi lo fate ma Claudio con le sue gambe può venire qui a prendere un po' d'aria anche perché è tante ore che lui non va a fare la pipì certo se ha bisogno lo accompagniamo il bagno è lì vicino e noi possiamo chiedere a lui se sta bene o meno? guardi che hai figli a casa a te ne Claudio ma vorrei chiederglielo io posso chiederglielo? la signora vuole sapere se stai bene Claudio Claudio sono Marina senti ci fai sapere se stai bene ah ok allora sì perfetto ah mi passo il referto dove c'è scritto se stai bene va bene allora grazie mi dà il referto grazie mille adesso leggiamo il referto nel frattempo allora ragazzi chi ha buoni occhi qui allora Claudio da come capisco ha scelto di non parlare allora dati rilevati da riuscite a leggere? tesserino rifiuta approccio con assistenza sanitaria negando disturbi rifiuta rilevazione ah rifiuta rilevazione parametri no concordati no vuole restare a terra c'è scritto una scrittura un po' rimane sul posto rimane sul posto dalla polizia di fronte stessa quanto è giusto a qua no sei da traumi adesso io proverò a chiedere di nuovo al signore se posso parlare di persona Claudio marina dispone non chiedere sempre posso e allora cosa chiedo io dispongo di poter parlare con Claudio mi senti mi senti marina 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 mi senti si marina mi senti si dimmi dimmi allora tu sei un pubblico speciale marina aspetta che c'è un sacco di macchine c'è veramente difficoltà a capire dimmi allora ti dicevo che tu sei un pubblico speciale marina e tu come pubblico speciale in questo momento in seguito la sovranità dell'ordine ha il compito di fare che non si senti scusate io faccio tanta difficoltà a capire marina ma non si sente perché c'è un audio che non si sente marina mi senti adesso mi senti marina perfetto allora stavo dicendo che tu sei pubblico ufficiale e infignita dalla sovranità dell'ordine tu hai necessità in questo momento immediata di parlare con Claudio e raccogliere le sue dichiarazioni adesso ok e glielo devi dire proprio così sono stata contattata dalla sovranità dell'ordine e ho il compito l'incarico come pubblico ufficiale di prendere le dichiarazioni di Claudio e se non basta glielo dico io che ti ho in pena sei stata appena insignita dalla sovranità dell'ordine allora io sono stata incaricata della sovranità dell'ordine a entrare e chiedere come sta in Claudio mi si può indire che cosa perché chiama il superiore un superiore che grado ha lei e dov'è il superiore che grado ha lei in chat con tutta Italia può essere pure tutto il mondo quando lo riesco quindi è grave allora lei mi sta dicendo che Claudio è in arresto Claudio è in arresto guarda questo è un superiore questo è un superiore senta io le posso chiedere che digli sei in arresto Claudio che digli sei in arresto e con quale imputazione allora se non è in arresto lo faccio uscire subito ho gente bisogno di parlare con lui per sapere come sta sa che in questi casi un avvocato può parlare io sono avvocato di me stesso e sono responsabile di me stesso è il suo avvocato è il suo avvocato di sese lo sei è l'agente autorizzato a propere lo sei guardi voi siete in tanti è l'agente autorizzato a propere in questo momento lui è fate tante cose lui è da solo sapere solamente come l'avete sequestrato ingiustamente ma allora che pericolo le faccio se io le dico che vorrei sapere dalla bocca di Claudio come sta ma gliel'ha detto prima posso? se l'ha detto se l'ha detto prima a me no? sì ho tenuto la porta a posta a me no? posso? mi lascia? ma gliel'ha detto è il suo avvocato 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 gli devo solo chiedere come sta ha letto si deve stare marina se loro ti devono dire se lo hanno arrestato se lo hanno arrestato se mi ha detto che per adesso no per adesso no vuol dire tutto e niente loro lo devono lasciare andare oppure devono fare in modo che tutto non avviene autorizzato marina marina ti prego ascoltami troppo confusione si sente troppo confusione ragazzi la questione è che tutti che sono qui fuori non hanno l'autorità cioè non hanno il potere di parlarmi chi è dentro come il signore adesso ti ha rivolto la parola tutti questi qui fuori non mi rivolgono la parola allora loro ti devono dire se sono se lo hanno arrestato perché se non lo hanno arrestato loro loro devono aprire la porta e farlo uscire ha detto capito se l'avete arrestato no perché siamo un pensiero l'unica cosa che ho fatto è una tirata di capelli così dai beh peccato ti dispiace molto per lei saprai dirmi se l'hai arrestato o no abbiamo i video è tutto registrato è pubblico guarda c'è la porta aperta domanda a quello lì sulla porta posso gentilmente l'avete arrestato la sua bocca non sarà mica collega non ci ha detto se non l'avete arrestato non ce lo vogliono dire non hanno il coraggio di dire questo è un altro abuso di potere lo sanno vero secondo la loro legislazione lo sanno di potere qui ragazzi abuso di potere registrato guarda guarda qui guarda che spettacolo autogol digelo che è un autogol autogol sì autogol vi ringraziamo molto tutta Italia a Gorizia starà su tutti i social ecco vediamo 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 gentilmente posso sapere se Claudio sta bene se l'avete arrestato devi sapere se l'avete arrestato dalla sua bocca lui ha riferito al medico perché siamo preoccupati lui ha riferito al medico di stare bene di non volere far sessista ma allora se siamo qui per lui perché siamo preoccupati perché motivo non lo liberate perché sono da fare degli atti sì ma voi li sentiamo lasciate libero Claudio senza donare il bagno hai detto una necessità di andare in mano sì ma a questo punto scusi mi scusi mi sente? il medico mi scusi mi sente? mi sente? no non devo parlare con nessuno perché? ho già risposto mi sente? l'avete arrestato? l'avete arrestato? perché se non l'avete arrestato state trattenendo un uomo vivo che su cui non avete giurisdizione contro la sua volontà davanti a 80 testimoni 80 tutto registrato la domanda sorge spontanea di nuovo l'avete arrestato? lei mi dice che non l'avete arrestato se non l'avete arrestato perché è lì dentro deve poter uscire poi voi fate tutti i vostri accertamenti e poi con le prove andate e lo andate a arrestare ma dopo lei può rispondere se l'avete arrestato? può rispondermi? si tocca dalla carreggiata e si è arrestato va bene noi che Barbara siamo preoccupati perché se dicono che non l'hanno arrestato se non ha voluto 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 contro la sua volontà e non si capisce perché resta lì fermo perché ancora lo stiamo restando loro che gli devono dire che deve uscire loro lo stanno arrestando questa si chiama riduzione schiavitù tortura si chiama tortura lo sapete che reato è tortura tortura andate a vedere il codice penale che è dentro un'azienda straniera pure il vostro bel codice penale andate a controllare andate alla finanza a vedere le denunce fatte andate andate perché lo state state perpetrando la schiavitù vestiti da poliziotti vero il magistrato non viene lo chiamano davanti a voi il magistrato non viene Barbara no allora lo devono liberare quando arriverà il magistrato poi andrà Claudio da loro si ti attendiamo perché tutti fanno non lo so ma chi poteva parlare è rimasto e io chiedo gentilmente se qualcuno di voi vi chiedo per favore se posso chiedere a Claudio se sta bene sentire della sua bocca se sta bene Marina sei bravissima Marina sei bravissima ragazzi posso chiedere a Claudio se sta bene qualcuno di voi un uomo non risponde un uomo un uomo un uomo dietro quella maschera c'è adesso c'è movimento lo liberano adesso c'è qualche movimento ma non si capisce di cosa perché c'è un vociferare ma fanno tutto di nascosto perciò non vogliono aggiornarti se è stato arrestato se no non ha le manette sta bene è disteso a terra ed è sequestrato dentro e noi non possiamo rivolgergli la parola lui è da ore ormai che non beve che non mangia che non va in bagno è in stati pietosi scusate ma Claudio non ha nessuno non ha la moglie qualche parente qualche amico che si siamo figli non è sposato prego ma Claudio è solo viveva solo? no allora io conosco Claudio ma non benissimo mi risulta che vive a casa con Claudio vive a casa con entrambi i figli Claudio vive a casa con entrambi i figli sì sì tu sai dove sono loro tu sai dove sono i figli di Claudio sì non so dove ma sai dove sono sì a casa non possono venire eh ma è un nuovo numero dei figli ok secondo te è il caso che li chiamiamo ma no per me no figli è minore ma secondo me sì secondo te sì sì non so dimmi tu Barbara secondo te è il caso di avvisare i figli che passino lui non vorrebbe a lui non vorrebbe ah allora se lui non vorrebbe magari aspettiamo un attimo il consenso di Claudio la decisione di Claudio meglio aspettare il consenso ok ok tu hai sentito che lui non vorrebbe lui di solito non vuole mettere i figli ok ma scusa Marina questo luogo è un luogo privato non è pubblico non si può entrare è un luogo pubblico privato questo sai che non lo so sono ignorante anche io veramente non lo so è pubblico o privato ma se sono aziende private è privato è pubblico o privato è pubblico è un'azienda privata sai cosa io penso che tu in buona fede pensi sia pubblico ma questo noi abbiamo i documenti che è un'azienda privata sai purtroppo la verità è dura ma è questa e magari questo ti serve da lezione domani o nei prossimi giorni che non so quanto dormirai stanotte che magari due documenti che io ho già lasciato qui dei militari ordini in questa stazione non so se ti sono stati dati a te però penso che da stanotte da domani ti informerai cosa ti dici sei curioso sei curioso hai paura non ho paura no e perché allora non ti informi se è una cosa così importante da fermare un confine con tutte queste volanti per una serata non è una cosa che che ti ti crea un attimino di scompiglio nel tuo lavoro io penso di sì sotto quella divisa tu hai comunque c'è l'uomo c'è l'uomo guarda non ti invidio non ti invidio perché purtroppo sono delle realtà che stanno succedendo che se prima le sai e prima è meglio per tutti prima è meglio per tutti in primis per te perché se non si sanno le cose se non si sa la verità non avete giurato sulla Repubblica perché la Repubblica non è mai esistita è un'azienda di diritto privato iscritta alla SEC alla Security Change Commission secondo lui è giusto quello che hanno fatto secondo il suo pensiero e state perpetrando un sistema schiavistico siete schiavi anche voi posso chiedere posso chiedere a Claudio se sta bene mi lascia fare questa cosa adesso no adesso no c'è un movimento non sanno cosa fare Marina sono partite le pepe scusa posso chiedere a Claudio come sta un momentino si però lui non ha non sono riuscita a parlare con lui perché c'era un'altra gente sono partite le pepe benissimo sono partite le pepe di tutti scusate posso chiedere se Claudio sta bene sono in acqua ha rifiutato le ture si posso chiederlo a lui vogliamo sentirlo dalla sua voce qualcuno ha provato a chiamare a chiamare si creano il muro si hanno chiuso fuori lo hanno sequestrato lo tengo lo sequestrato e sono forza su questa cosa qualcuno ha provato a chiamare le decisioni a noi ma andiamo conoscendo per quel che conosciamo Claudio è una persona tutta di un pezzo perciò è autodeterminato è sovrano di se stesso e sicuramente Claudio ha tutte le nozioni per rispondere a questa situazione e sta facendo del bene a tutti noi come lo ha sempre fatto e sta agendo in legalità Claudio sta agendo in legalità come lo ha sempre fatto una persona molto colta molto informata non agisce mai in fuori legge e ha aiutato tanti tanti di noi a essere informati sulle situazioni perciò Claudio è veramente un grande merita tutto il nostro sostegno scusami Marina volevo dire una cosa Barbara hai provato a chiamarlo sul telefono allora il suo telefono il suo telefono ragazzi il suo telefono dov'è il suo telefono dov'è però qualcuno può telefonargli hai la possibilità di chiamare Claudio al telefono dai proviamo a chiamare Claudio al telefono vediamo se risponde Marina scusa posso dirti una cosa Marina mi senti? mi senti? sì ovvio sì sì dimmi dimmi allora ascolta bene vediamo di mettere chiarezza e equilibrio in tutta questa cosa la mia domanda è tu lo sai e ti rendi conto chi è il più alto in grado lì dove siete tutti voi sì io allora io lo immagino perché da come si è mosso nelle cose sì ma mi sta scappando tutta la stella no Marina il più alto in grado sei tu e Claudio che è dentro tu non devi chiedere per favore tu devi dare un ordine perché sei il più alto in grado devi disporre non devi gentilmente chiedere tu stai dando un ordine a una divisa il più alto in grado sei tu perché sei donna viva sei il più alto in grado di tutti quelli che si sono lì e tutti quelli che sono sopra quelli lì sì adesso è ora che prendi coscienza di questa cosa hai preso coscienza di questa cosa allora guarda in questo momento c'è un'altra persona che sta venendo non ci sono persone lì le uniche persone hanno la divisa tutti gli altri non sono persone le persone sono quelli che indossano la divisa dice la parola divisa divide né tu né Claudio siete persone siete anime scusi aspettami scusami mi scusi io posso parlare con lui anzi no non devi chiedere scusa devi disporre vabbè ok vieni qui dai dai un momentino un momentino dai non li faccio niente cos'è un occhiale così a posto guarda la domanda gli occhiali ha diritto ad avere testimoni ha diritto ad avere un testimone dentro brava Sara pensetto lui non ci vede per quello mamma mia qualcuno lui è senza occhiali non ci vede non ci vede adesso la porta non solo l'hanno sbarrata con tutti loro ma l'hanno anche chiusa chiave diciamo che in questo momento stiamo aspettando e a questo punto ragazzi io ho esperienza di autodeterminazione ma fino a un certo punto e mi piacerebbe che intervenisse Stefano Stefano Tania Lutti che ha detto che arriva adesso perché va a essere problemi con il lavoro e a questo punto ragazzi siamo ben messi perché lui sa agire in legge eccolo qui eccolo qui eccolo qui e allora Stefano ha tutte le carte in tavola per agire ve lo inquadro grazie grazie è grande hai ascoltato tutto io sono la camera meglio oggi guardi ha beccato proprio quello guarda che sarai famoso marina ricerca di riprendere sempre tutto venite ragazzi che dai dai andiamo dai andiamo tutti venite è ingresso principale che è un ingresso di servizio per i veicoli di servizio quindi dovete stare qua chiudì il microfono massimo mi dai da cedere è che Stefano abbiamo chiesto con chi parlare e non ci rispondono vedete ancora Claudio visto che è in piedi adesso no no adesso Claudio se ridisteso sembra di sua volontà perché probabilmente non accettano di fare quello che Claudio vuole fare di quello che ha imposto vero Stefano non so Claudio è in connessione con la madre con la terra state tranquilli sereni tanto a mezzanotte finisce tutto quindi no si commettono reato domanda tecnica mi ha detto di passare i comandi a Massimo però Massimo non mi ha detto niente scusate ci sono Patrizia ci sono Patrizia ma adesso sono dentro col cellulare perché non posso ancora mi dicono di passarti la colga no no puoi farlo però non posso finché no non posso ancora sto aspettando una risposta da Marco e DJ perfetto ti faccio sapere ti aggiorno grazie comunque immagino si aprà reagito doveva non è roba mia questa la cosa si allora mi prendi vuole se 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 vuole c'è un po' una città vieni ad andare a casa e a me mi porteranno un po' mi dico che c'è questa cosa mi vuole un po' per comandare grazie grazie ma io ho visto la persona è bene 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 non è perché è dentro mi so guarda prendo 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 la session è bene no perché è bene mi hanno fatto perdere 4 ore dovrebbero sportarmi a casa dove stefano non lo verrà ecco lo stefano scusate scusate la signora mi stava per mordere io continuavo a fare così con le mani aperte io so solo questo quindi poi le do tutte le ragioni del mondo però io so per adesso e la signora manda poco di mordere io non ho sono sicuro di quello che dico sono tutti i video no no però no uno due tre erano ma comunque rosa abbiamo abbiamo il video abbiamo il video abbiamo il video è una porta chiusa chiave c'è una porta chiusa chiave là c'è una persona che è stata sequestrata all'interno un uomo e io ho cercato di è un arresto Michele scusa se stai zitto ascoltiamo cosa dice non è violenza e chi m'attirà di capelli non era violenza chi m'attirà di capelli non era violenza perché difendersi secondo lei è illegale e io mi sono difeso lei stava bloccando una persona quando mi sono stati tre di capelli mi sono difeso io non ho fatto niente mi sono stati tre di capelli e sono stati in silenzio e poi tutto quello che ho fatto mentre ero in simozio davanti a lei e manca poco non è vero non so io stavo cercando di difendere Claudio e siamo d'accordo ma io a lei ho mai fatto giudenza in qualche modo in quel momento era violenza io a lei cioè io con la mano così ho fatto violenza e lei mi mi ha fatto violenza e lei mi mi ha fatto violenza e lei mi ha fatto violenza ok se lei mi fa violenza l'idea è tutto registrato è tutto registrato è tutto registrato è tutto registrato è ancora certa di giustificarsi ha fatto un grosso errore stasera quello potrebbe essere sua nonna quello e se io vedo una persona quello non va bene è violenza anche io ve lo assicuro guardate i video altre mille volte mille volte non una mille volte provate a distenderlo voi Claudio e cosa chiede quante volte io ho chiesto di alzarsi di bere l'acqua e vuole stare svesola il signor Claudio sta bene perché io ho chiesto mille volte di alzarsi io ho preso la sedia io ho comprato l'acqua questo non la giustifica per essere stato complice di tutto quello che è accaduto potete disporre che gli venga restituito il cellulare per far sì che noi parliamo con lui ma Stefano può suonare il campanello e chiedere di parlare con un superiore si può suonare il campanello e chiedere di parlare con un superiore però per lui è la sicurezza capito? disponete non chiedete la porta deve essere aperta quella porta quella porta deve stare aperta al pubblico Claudio è un superiore Claudio è dentro disteso ha due scagnotti che sono lì e noi siamo qui ad attendere fuori questo è il panorama potete fargli ridare il suo cellulare a Claudio? prego se potete disporre che gli venga restituito il suo cellulare a Claudio possiamo disporre che gli venga restituito il suo cellulare non possiamo disporre disponi disponi che gli venga restituito il cellulare non resistono le richieste non resistono a richieste non resistono a richieste rimangono a passaggi e prendono qua a quella sono antivorici e mi fermo dopo anche se hanno reali in qualche modo sono tutti nella stessa barca ma non lo capiscono ma scusate perché è disteso per 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 sua scelta sicuramente per sua scelta non lo sappiamo perché è una sua scelta sta prendendo energia dalla terra si chiama resistenza passiva il che significa che lui non può essere accusato di alcun che ok è inerte è inerte per terra quindi se loro fanno qualcosa nei confronti di una persona che non sta facendo nulla Claudio starai facendo resistenza passiva ed è l'unica cosa che lo può salvare e loro non possono fare niente né prenderlo né mettergli le manette né portarlo via devono solo decidere di rilasciarlo quindi Claudio sta facendo l'unica cosa giusta che si deve fare in queste situazioni non occorre resistenza che cosa è successo in effetti è stato fermato la frontiera non hanno accettato i suoi documenti l'hanno prelevato dalla macchina con la forza è tutto registrato nella zoom e l'hanno portato in quel luogo Claudio si è disteso immediatamente per terra non certo per simulare un malore hanno comunque chiamato un'ambulanza nel tentativo di fargli fare un TSO che evidentemente non gli è riuscito perché Claudio l'ha rifiutato e adesso Claudio sta aspettando che queste persone identifichino o comunque facciano degli accertamenti sulla situazione gli hanno sequestrato il mezzo l'hanno portato via con i carattrezzi e Claudio sta facendo l'unica azione possibile per un uomo vivo cioè non opporre resistenza alla prepotenza grazie Alessio in quanti siamo in diretta ragazzi 75 però siamo di più perché poi spesso è doppio anche perché tanti non si sono messi no perché ho sentito alcuni uomini vivi e avevano degli impegni familiari e non sono potuti venire purtroppo ma poi su YouTube sicuramente saremo in tantissimi perché questo è un evento da immortalare nel Guinness dei Primati nel Guinness dei Primati guardate tutte le facce dei presenti che c'è poco da gioire qui stasera ma sappiamo che Claudio ha la forza per saltarne fuori e noi lo sosteniamo siamo tutti qui da ore senza cena senza acqua senza lavarsi senza tutti con impegni vari che abbiamo rinunciato volentieri ecco adesso c'è questo signore che sta facendo vedere dei documenti a Claudio e non sappiamo cosa sta dicendo e quel signore ecco vediamo Stefano che cerca di interagire ma vediamo se c'è qualche uomo si ma lo stress è tutto loro sono loro sono stressati come avete finito il turno ragazzi o no fate straordinari si adesso guarda non ci sono macchine non ci sono macchine non creo pericolo a nessuno adesso la carreggiata deve stare di là si adesso che vi ho inquadrato tutti bene vado di là non ho motivo neanche di restare qui vado di là volentieri si si tranquillo grazie del consiglio ma vado di qui velo intieri ecco Claudio si sta alzando ecco marina sei grande mi ha detto se vuoi che vada a suonare a Carlo maira ha detto se vuole visto che abita di fronte a lui che può suonare il campanello al figlio ha chiesto eh ma non sente dimmi sono già bisatti ah ok no no problem no ok perciò Claudio tu hai deciso che stai lì dentro ah non ti lasciano uscire no non hai visto che non lo lasci ma perché invece sai cosa ci hanno detto a noi che non vuoi uscire tu ah vedi come stanno le alcalini qua vedi abbiamo tutte le registrazioni no ok ha detto che non può uscire lui non può uscire ecco ragazzo con la barba un novello sicuramente marina marina si è arrestato aspetta che chiediamo a Claudio aspetta che sta parlando con Stefano Claudio sei arrestato non te l'hanno detto allora Claudio si urla marina mi dice a Claudio che se non l'hanno arrestato gli dovevo una identificazione ah identificazione identificazione quanto ci vuole identificarlo non hanno ancora capito che è un uomo vivo è grave è questo se non l'hanno capito vogliono farlo tornare lì vogliono farlo tornare lì e lui sta dicendo perché 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 sta dicendo perché deve stare disteso lì e non può parlare con noi oltre il vetro lo ritengono pericoloso ecco Stefano dimmi Stefano studiare l'articolo 10 e il 494 perché quando si è fuori il giurisdizio esiste una legge internazionale e voi rispondete tutti sulle leggi internazionali in questo momento cosa succede? non è che uno deve identificare per forza di cose un uomo come una persona perché non esiste questo è una forzatura dovete anche piccarlo per farlo identificare come una persona più la stessa cosa violenza psicologica Stefano posso parlarti un attimo Stefano chiedi di parlare col più alto in grado quindi hanno barricato la caserma scusate adesso stiamo vedendo che il telefono non lo può avere l'hanno sequestrato e sul mobile e sul mobile non può avere il cellulare e Claudio sta parlando con loro come spiegavo prima quando si va a scuola ci sono l'80% degli avvocati sanno solamente la prescrizione un altro 20% sanno i diritti internazionali che praticamente non sanno niente perché voi partite dal presupposto che davanti a voi dovete avere una persona fisica e quello che state facendo se dovete per spostare di cose identificare una persona fisica ma che cosa è la persona fisica? vi l'hanno spiegato? no lo sa solamente il 20% degli avvocati che fanno il diritto internazionale e poi c'è quello del diritto naturale che è ancora più basso che sa anche chi è l'uomo e la differenza quindi senza accorgevi dato che in questo momento c'è un incidente internazionale voi siete più di quanti sposti quella è la realtà allora questo ve lo dico perché andate a studiare voi perché voi siete degli uomini che fate un lavoro quando un'ordine è sbagliato non è che dovete diventare nazionali dovete decidere se eseguilo o non eseguilo se è sbagliato si può eseguire ma fate mettere al prescritto perché non siete voi a rispondere dovete far rispondere al prescritto se invece non lo metto al prescritto voi diventate esecutori il mio fratello che è un elettricista mi ha detto se tu fai un elettricismo e un impianco io ti dico metti i fili così e sono sbagliati e sai che uno può morire se muore qualcuno io divento l'esecutore e lui chi ordina quindi vado in galera io peggio se non lui che mi ha ordinato il mio fratello i fili questo è stato che si resta una cosa per capire perché è giusto compresi tutto quello che noi facciamo lo facciamo anche per voi perché non lo vogliamo nessuno noi sappiamo che è stato un lavoro sappiamo come abbiamo scritto quanto ma anche voi è giusto che possiate dipendere mi stanno potendo studiare lo sono privato e dopo sapete come agire devono rispondere del reato di tortura e di inquisizione perché lo stanno stressando stremando fisicamente psicologicamente per farlo identificare in una persona che non è lo stanno torturando comunque per adesso questa è la verità e siamo tutti testimoni di quello che stanno facendo di cosa si stanno macchiando poi vi spiego anche cosa sono stati ci siamo prendo un esempio per la macchina quanto costa per la macchina è fatta con il ferro il ferro si può comprare dalla terra no perché il ferro è un dono della terra con i soldi non si può creare il fungo si può lavorarlo poi si mettono ore di lavoro il tempo è un dono io non posso comprare i giorni di vita l'energia l'energia è un altro dono della terra perché l'uomo è capace di trasformare l'energia non di creare domenica quindi cosa che non manca lì quant'è? zero cosa succede? si vede che gli stati prendono l'acqua lo mettono poi dicono tutti quanti dovete allacciarvi alla rete idrica e dovete chiudere i costi arteriali da quel giorno se non paghi la bolletta l'uomo è un pericolo di vita perché se non ha soldi mora di sempre questa è la Stato per questo motivo e altri nel 2012 tutti gli stati sono stati chiusi voi non è che siete senza lavoro perché voi vivete grazie al popolo i soldi che stanno regolando sono i nostri sono i popoli e quindi si è imparato anche come seguire correttamente il vostro lavoro perché non c'è un po' di gente il cuore che bisogna andare a vostra mano lo bisogna capire la legge giusta giusta quando si stanno con le sue leggi giuste si può anche svolgere bene il proprio lavoro sicuramente si comincia a scoprire delle cose che non sono adattate ciao 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 dimmi Barbara dimmi Barbara ero in pausa un minuto che stavo sbrigando cose mie e ho dato in mano il cellulare agli altri devi dirmi qualcosa secondo me secondo me c'era un'eco strana però non so c'era un audio che faccia per ritornare probabilmente un rimbombo allora perché c'è Luisa che c'è anche l'inchat dato che ci fa ecco volete che chiedo Luisa di chiudere guarda sto chiudendo sto chiudendo io tutti tutti gli audio aperti perché ho tanto che noi qui in diretta c'è Luisa che sta anche lei e nella chat e però deve dire ecco ragazzi ah ok c'è un'altra signora allora se gentilmente esci e se puoi filmare anche tu tutto ci fai un favore grazie allora se io so il nome lo posso fissare in alto insieme al tuo Marina così posso sentire anche lei eccetera perché io posso fissare però mi devi dire qual è il nome così lo fisso il mio nome Marina Marina il tuo il tuo è già fissato da tutto il tempo quella che tu hai detto che sta guardando anche lei lo posso fissare ah sì scusa come tu chiami? Maira Maira sì e come ho? sei dentro la zoom? sei dentro la zoom? sono uscita adesso perché faceva chi riprende è fissato questo volevo solo dire quindi ok no sai cos'è siamo in un confine siamo sulla strada abbiamo grossi problemi a a sentire quello che dite no? però noi ti sentiamo benissimo Marina quella è la cosa più importante sì ok ok niente siamo qui tutti in attesa vediamo se Claudio ci sono delle novità Marina ogni tanto giusto per la cronaca diciamo anche l'orario adesso sono le 23.51 ad esempio 23.51 ok ogni tanto magari lo lo diciamo così sì sì grazie e siamo qui Rosa da che ora? siamo qui siete? tu dalle ecco Rosa che era in macchina con Claudio sono qui dalle 4 e mezza del pomeriggio insomma stiamo trascorrendo tutte queste ore in attesa di loro decisioni adesso Claudio sta parlando pacatamente con un graduato perché deduco sia un graduato questo da come l'ho visto muoversi qui fuori e tutti gli altri sono fuori penso a prendere un po' d'aria perché tutti ne abbiamo bisogno Claudio sta parlando pacatamente con questo signore e adesso e adesso stanno aprendo il bagagliaio della macchina della polizia non so se hanno preso spero qualche decisione a riguardo magari anche positiva si stanno muovendo all'interno ma c'è chi ci prende il caffè nella macchinetta si è talmente giovane quella ragazzina che veramente non sembra avere l'età maggiorenne a mezzanotte lo lasciano andare prego a mezzanotte lo lasciano andare a mezzanotte bene siamo tutti con lui a mezzanotte siamo tutti qui mi dispiace per l'inconveniente purtroppo da una parte diciamo sta bene pure che è successo perché più fanno queste cose e più prendiamo forza noi sì sì boh ma Claudio hanno trovato quello giusto per fare queste cose ragazzi perché lui sa il fatto suo è molto informato è sempre dentro nel pezzo poi insomma qui affiancati a noi abbiamo Stefano siamo bene siamo bene sicuramente li portiamo fuori molto bene andremo ad abbracciarci tutti come qualcuno ha detto sono otto ore il massimo di tempo che hanno a disposizione per fare l'accertamento è per questo che Eugenio dice a mezzanotte lo lasciano in realtà lo lasceranno alle dodici e mezza sono lì dalle quattro e mezza ok quindi Marina otto ore massimo altrimenti dopo diventa sequestro di persona o arresto ah bene allora se sono già le 23 e 54 possiamo affermare che è un sequestro di persona aspetta 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 no 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 non ancora non ancora non ancora dopo le ok dopo le ok va bene cancello ok le quattro e mezza le dodici e mezza scusa ma le inquadrature sono lo so sono così sono così le inquadrature ragazzi siamo fusi siamo tutti fusi siamo tutti fusi tieni ancora un secondo così allora vedi che non riescono neanche a muoversi più tutti quanti hanno l'animo pesante vedi come sono tutti indronati come delle campane avete visto che c'è oh no scusate tutto ok no vedevo il riflesso l'audio eh non si è detto Marina come qualcuno ha scritto giustamente in chat la regola è che possono trattenerlo otto ore per accertamenti dopodiché devono dare una giustificazione per il suo eh trattenimento che diventerà sequestro dopo otto ore dopo otto ore se non danno una giustificazione diventa sequestro di persona sì ci chiedevamo questa cosa otto ore da quando lo hanno da quando lo hanno fermato da quando lo hanno fermato ah da quando lo hanno fermato allora se erano quattro e mezza dal primo momento in cui gli hanno chiesto di identificarsi ok allora diciamo che non manca tantissimo per le otto ore per accertamento si fa in cinque minuti neanche ci vogliono eh sì ma guarda e adesso lui sta parlando ma non sappiamo cosa si stanno dicendo però i toni sono molto pacati se volete vi passo la situazione di Stefano che è qui basta che leggiamo loro le senti l'audio le dato la sentenza a desiderio la domanda si le l'ha data certo le l'ha data all'inizio Stefano in chat dicevano che ci vogliono le otto ore perché lo fermino perché dopo scatta il sequestro loro non fanno niente in modo di gara la la z quindi neanche ciò adesso è questo perché non è non sarà applicata nessuna legge dell'estate no avrei dovuto fermarsi subito ho fatto anche la carta di trascolti che c'è scritto che ha il fondo sopra che non possono interagire loro figuriamoci la polizia se loro non possono interagire perché la polizia non può dire mica ha fatto violenza quindi in generale la z è tutta legale semplicemente eseguiscono un'estertà anche nella situazione giusto giusto noi non abbiamo sentito molto bene comunque ah no sì Stefano diceva che comunque agiscono in illegalità e stanno agendo in illegalità comunque nella loro legge l'abbiamo detto anche questo prima e anche se dovessero passare le otto ore diceva Stefano potrebbe essere che a loro gli importi niente di questa cosa ecco stavamo mettendo avanti questa ipotesi adesso adesso all'interno ci sono dei poliziotti che e niente stanno lì e prego Marina chiedete se ti fanno prendere un caffè dentro la macchinetta vai chiedigli e cosa gli chiedo posso andare o a prendere il caffè dentro la macchinetta io ho bisogno di un caffè vado dentro a prendermi un caffè così gli dico certo vai vai allora io ho un urgente bisogno di farmi un caffè avete una macchinetta del caffè vero posso non devo chiedere posso purtroppo questa cosa la devo elaborare ragazzi sono troppo e allora vai a chiedere tu il caffè dai posso portare un dai ecco però dicevo anche nei loro confronti ok chiedi tu il caffè no questo se hanno la macchinetta se io questa cosa non non lo so ragazzi evidentemente per questa cosa non sono così pronta perché quando ho visto alzare le mani in quel modo sinceramente mi aspetto di tutto da loro perché non hanno avuto nessuna reticenza senza ad alzare le mani su tutti ci sono i video e sinceramente ci sono poche parole per descrivere la scena che vedrete nelle nelle repliche ecco c'è Claudio vediamo vediamo cosa fa cosa fa Claudio l'ho suggerito per avere più forza non si sente niente la signora si mi diceva giustamente che gli ha dato un po' di forza Claudio per affrontare la situazione ma lui è sereno sta sorridendo e sicuramente ha tutte le forze per affrontare questa situazione qui c'è un via vai di poliziotti ma nessuno fa niente al di là di colloquiare con lui con cose che non possiamo sapere così è vediamo Stefano che consigli consigli ci dà Stefano voi dobbiamo attendere dobbiamo attendere non possiamo far niente allora aspetta così devi parlare secondo me conviene evitare e leggere io sono conviene perché allora fuori ascolta non posso ascoltare hanno barricato tutto non rispondo né la chiamata né niente quindi tutto barricato se fanno il campanello nessuno arriva non puoi comunicare all'interno comunque in grado ha lasciato tutti i documenti anche quello del ministero quindi c'è anche scritto che non possono interagire sopra perché là c'è scritto dopo non so cosa vogliono fare stanno cercando semplicemente di farlo identificare come persona fisica quindi qualcosa che non c'è quando si stancheranno lasciano andare dobbiamo solo attendere il problema che adesso non riescono a trovare il motivo per lasciarlo andare capito perché non hanno una giustificazione valida perché l'hanno fermato non riesco a trovare il motivo per tenerlo fermo semmai eh loro adesso che ti dicono perché abbiamo scherzato ti dicono perché evidentemente qualcuno in alto deve rispondere fra poco allora le leggi se tu giochi la legge non può essere applicata sull'uomo e sull'uomo vivo perché perché alla fine si chiude il cerchio il tribunale di Gorizia non può andare a rilassare la targa perché come rilassa la targa la legittima deve fare un dato in prescrizione quindi loro in questo momento non stanno proprio come fare la fine sì non hanno nessun appiglio per dire abbiamo fatto questo per questo motivo perché l'identificazione si fa in 5 minuti il resto che senso ha nessuno quello che la legge non può essere applicata solo a persone fisiche c'è un motivo no? e quindi loro sono fermi in stallo perché non c'è nessuna legge della Costituzione italiana che dice come devono agire devono andare sulle leggi internazionali e nessuno le sa tranne qualcuno molto in alto ma quelli ovviamente vengono nascosto tutto quindi quando si stancheranno lo lasceranno andare secondo me converrebbe giusto come è scritto in chat recitare un po' l'io sono se l'avete a portato di mano qualcuno magari anche noi lo facciamo dal io sono ok aspetta che io lascio così lo leggono a livello energetico va bene ti legge io sono metto gli occhiali a quest'ora sono già sono senza mangiare magari sono come andare in pizzeria per un pezzo dell'esempio della pizzeria non so se possiamo lasciare la prestazione uno 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 aspetti di chi è di stefano di stefano ah no no marina 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 che cosa dice ci sta scaricando ci sta scaricando la situazione per dialogare con loro anche se loro non voglio raccontarvi come stanno le cose tanto sono lì che ascoltano non accettano nessun tipo di una cosa incredibile no non accettano nessun tipo cosa chiedo cosa chiedo se poteva ricaricare il cellulare no ma lo dovete leggere voi io sono tutti quanti insieme eh sì il mio cellulare sta se grazie a qualcun altro marina dimmi chi è adesso vedo se posso collegare grazie così mi dici chi è e io lo fisso ancora il video in un attimo vediamo di no grazie io non me la sento ho mangiato un insieme questo questo chiuso questo si e tu un attimo nella rete lei era anche formula io non ne faccio niente era anche però io ho sentito grazie 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 non si sente più Marina un attimo Marina è nata via un attimo arriva subito ah ok perfetto grazie Stefano era solo che non sentivo più nulla allora perché mi sta scaricando il cellulare adesso vediamo se riusciamo a trovare un un sostituto ok poi mi dite il nome che così lo metto lo fisso non si può farlo no no non è vero non si può farlo no Grazie. Volevo dire a questi ragazzi in divisa che forse credono di far rispettare la legge, che obbedire agli ordini non è far rispettare la legge. E forse questa è un'opportunità per loro per andare a studiare la legge, per sapere che cosa... Ma è che sono stati istruiti diversamente. Magari spiegarglielo che non è quello... perché loro magari nel loro io pensano anche di far rispettare la legge, ma non lo stanno facendo, perdono di credibilità. Però dovrebbero un po' informarsi in modo molto più ampio rispetto a quello che deve... Appunto, appunto, proprio quello. Hanno l'opportunità in questo momento di vedere, di toccare con mano qual è la legge. Infatti, infatti, mi auguro ecco che si informino. Lurimberda doce. Stanno dialogando perché comunque anche Claudio è veramente autodeterminato, quindi sa che cosa dire. Sì, sì, vedo le luci lì, mamma. Però non si smuove ancora nulla. Io non capisco... Scusami Marina, scusami Marina se interrompo. Ma io non capisco dove nasce questo dialogo con questa gente. Non ci dovrebbe neanche parlare dopo tutto quello che gli hanno fatto. Capisco tutto. Capisco che ci vuole un po' di... Però, scusami, che cosa ci staranno dicendo adesso? Dopo tutto il danno che hanno fatto questo. Lui si autodifende e evidentemente sta spiegando... Ma lui non si deve difendere da niente. Lui non si deve difendere. No, come uomo libero deve difendersi. Ma non si deve perché non ha fatto niente. Claudio si sta difendendo. Claudio è lì a dare informazione. Ogni volta che ci succedono queste cose, ricordiamoci che è un'opportunità per noi di spiegare, di continuare a dare informazione. Qualsiasi cosa gli arrivi, anche un semino piccolo, è un'opportunità che abbiamo avuto e ringraziamo. Se la guardiamo sotto questo aspetto, le cose cambiano. Sì, sì, sono d'accordo anche con quello che dici tu, Roberto, sono d'accordo. Però vedi, questo dialogo è troppo lungo, capiti qual è il discorso? Troppo lungo. Ma d'altro se non lo fanno uscire ancora, evidentemente, almeno parla intanto, comunica. Questi ragazzi sono lì che stanno aspettando di eseguire l'ordine successivo e nel frattempo hanno l'opportunità, grazie a noi, di ascoltare altre cose. E di aprire la mente, il cuore e la coscienza. Questo è il nostro compito. Sì, certamente. Bravissima, bravissima, bravissima. Marina sta facendo una pausa, sono Maira. Scusami, questo posto ha solo posti in piedi? Non c'è una sedia neanche a pagarla? No, allora, ci sono queste sedie e stiamo facendo un po' a turno per sederci. Lì fuori, lì fuori sì, ma dentro pure vedo che non c'è nessuna possibilità di seduta. No, infatti sono tutti in piedi, però il graduato è seduto su una comoda sedia. Ah, ok. Il signore c'è preso una comoda sedia, questo sì. Sì, sì. Comunque Claudio, da come vedo, è molto sereno e sta sicuramente spiegando tutte le sue motivazioni con gran autodeterminazione. C'è la Patrunzia, te lo vorrei salutare. Ciao Patrunzia! Ciao! C'è anche Viviani qua, sai? Mi saluta. Ciao! Ma siete arrivati adesso? Ah, siamo arrivati da più di un'oretta, che siamo qua. Ah, che piacere vedervi! Ma che situazione! Come state voi? Eh, noi stiamo abbastanza bene. Bene. Che ti faccio parlare un attimo con la Liviana. Sì, Viviana! Ciao, Oliviana! Tutto bene? A parte... Sì, sì, sì. A parte... A parte... Che giustamente è un'opportunità. Noi stiamo qua con lo stesso intento di audio, perché lui sta facendo una conferenza adesso. Ne prende un sacco in un colpo. E quindi è... E direi che è grandioso, sì, è stato terribile quello che ci è successo. Dove siete andati? Dove siete andati? Ecco. No, e facciamo vedere solamente la situazione in cui si trova Claudio... Bene. ...con le altre polizie attorno. Sì, sì, abbiamo visto. Guarda, è stata una scena veramente... Sì, è proprio bella, eh. Vediamo cosa dice Claudio. Ok. Ciao, a presto! Ciao, cara! Ciao, cari, ciao! Cosa cerca di dirci Claudio? Cosa ci dice? No, no, è... Ciao! Stai bene? Sei arrestato? Sequestrato? Al momento sequestrato? Ok. Ecco, Claudio ci ha fatto sapere che sta bene. Cosa ha detto? E al momento... E al momento... E' trattenuto. Trattenuto, trattenuto. La parola giusta, giuridicamente trattenuto. Sì, credo quello. Ok. Parliamo in legalese qui, mica scherziamo ragazzi. Ecco, adesso qualcuno incomincia ad essere stanchissimo e va via. Qui ci sono uomini vivi e non. Però molto vivi. In quel senso, non dichiarati ancora, ma molto vicini al percorso, perché poi queste cose sicuramente... Marina, dimmi. Devi cercare di capire la giustificazione del motivo per cui lo trattengono, che è un sequestro. Devi cercare di capire, dovete cercare di capire perché lo trattengono. ci potete dire perché lo trattenete? Facciamogli invece mettere qualcosa per iscritto del motivo per cui lo trattengono. Adesso devono scriverlo dopo otto ore, è giusto che scrivano qualcosa, almeno due parole le sanno scrivere? Quattro di loro. Le sapete scrivere due parole? Passiamo il secondo tempo. Passiamo il secondo tempo. Dopo? Era dopo. Quando dopo? Dopo. Quanto tempo deve passare? Tempo. Tempo. C'è l'altro. C'è l'altro. C'è l'abbiamo tutti. La differenza è che voi siete pagati profumatamente da noi e noi siamo qui in solidarietà e amore. Perché lei vede che dalle nostre bocche escono solo parole di conforto e amore. Altre domande? No. Una a cui non mi può rispondere, non vuole rispondermi. È molto importante per noi saperlo. Ma qui c'è un muro, vedete? Vedete? C'è un muro. C'è un muro. Ci sono maschere da tutte le parti ma le mascherine non parlano. Si muovono un po' ma le maschere non parlano. No. Persona vuol dire maschera, vuol dire cosa. Voi fate parte delle forze dell'ordine, siete in disonore. E questo prima lo sapete, prima informate, prima leggete, prima studiate, meglio è per tutti. Ma io sono sicura che questi due ragazzi giovani domani prenderanno visione di tutti i documenti che noi abbiamo che legge. sicuramente perché non possono continuare il servizio in questo modo perché hanno assistito anche loro a tutte le violenze che sono state fatte ingiustamente. ecco questo è lo spettacolo, siamo tutti in attesa ancora. Marina scusa, ma il tuo cellulare adesso l'hai caricato? Lo stai caricando? Guarda, ho avuto il sostegno di uno di noi che tra di noi il bello è che non ci conosciamo tutti e ci siamo presentati da... Tu di dove sei? Cosa fai i nomi? Adesso non ricordo il nome nemmeno perché siamo tutti molto frastornati. Questo signore che mi ha imprestato il carica cellulare è rientrato e è andato a casa. Però ho il carica suo che adesso qualcuno vorrà di riportarglielo perciò insomma dai siamo non bene, benissimo. Tanto che così attendiamo io volevo farvi notare delle coincidenze incredibili cioè quando c'è stata fatta la chiamata di soccorso e noi abitiamo qui vicino ma non così tanto e due di noi eravamo a un minuto perciò due di noi eravamo addirittura nell'altro confine accanto in Slovenia. Io stavo festeggiando con amici e son corsa subito ovviamente e l'altra signora stava facendo se non sbaglio palestra in Slovenia perciò son corsa subito anche lei. E dopo ci sono state delle storie anche un po' che mi hanno raccontato ma qui c'è di coincidente di anime che sono passate da queste parti in modo tempestivo ed è veramente molto molto emozionante con le cose che stanno succedendo. Qui adesso in questo momento c'è un clima veramente sereno, tutti stiamo colloquiando più o meno perché insomma diciamo che quasi otto ore di stare assieme ovviamente si parla un po' del tutto ed è bello perché si creano questi legami in queste situazioni. Io ad esempio Rosa che era assieme a Claudio e non la vedevo da un sacco di tempo e la vedo qui con grande piacere ecco. E i poliziotti stanno assistendo ai nostri discorsi perché noi tutta la serata abbiamo messo tutto alla luce di tutti perciò abbiamo esposto i nostri documenti quando ce li hanno chiesto abbiamo esposto i nostri dubbi stiamo parlando liberamente in autonomia e loro invece tutta la sera stanno bisbigliando cose fra di loro. Ci mostrano le spalle mostrano tutta questa ostilità come avete visto insomma molto forte ecco perciò io vi sto descrivendo un attimino quello che è successo perché mi parli capire che è paura è paura non è ostilità loro si vergognano per quello che non vi guardano. Io guarda ti dico che è un lo chiamo graduato perché non so dire altro uno comunque dei graduati che in video c'è e ha messo sicuramente lui le mani al collo a Claudio per per fargli forza all'interno della macchina. Uno di loro ci ha detto di allontanarci dalla zona noi abbiamo detto ci faccia vedere l'articolo per cui ha l'autorità che noi dobbiamo allontanarci noi vogliamo stare qui è terreno pubblico e pubblico. Vabbè nella loro lingua nella loro lingua ecco e si è avvicinato a me con il petto gonfio a un centimetro dal dalla mia figura. Perciò ha invaso completamente la mia aura possiamo dirlo così e inveiva in modo molto molto autoritario dicendomi di spostarmi da lì che non potevo stare lì. Lei sa chi sono io sono il maresciallo che dico i loro buffi nomi non li conosco e gli ho detto ok io sono Marina Marizza che problema c'è? E lui tremava tremava perciò era tutto con la voce tremante ed era tutto cioè aveva molta paura molta paura di aver fatto figuracce di fronte a tutti questi suoi dipendenti e tutta questa situazione è perché sai loro hanno i loro gradi le loro autorità tutti i loro riti e fare figuracce così e non voleva perdere la faccia perciò a un certo punto ha messo addirittura le mani addosso a Claudio perché non ce la faceva dalla rabbia dal no ma è stata una situazione veramente patetica patetica e ti dico si è visto nei suoi occhi la la paura quando una donna innocua che si pone di fronte dicendo i suoi connotati sono qui e posso restare qui non mi fermo da qui che paura hai di me invece malgrado abbia avuto tutti questi suoi distintivi che porta tesoro non gli hai dato il nutrimento che di cui aveva bisogno ma guarda ma sereni sereni tutti non ho visto nessuna faccia sbigottita o comunque vacillante con questa cosa ci hanno dato tanta tanta forza abbiamo fatto gruppo abbiamo fatto popolo popolo è la parola giusta e stiamo facendo popolo in questa situazione e addirittura adesso vedo un sorriso nella bocca dei poliziotti dentro che stanno parlando con Claudio perciò vedo toni molto amichevoli e sicuramente è questo il futuro che noi vogliamo creare un ambiente di pace di serenità di confronto non tutti possono sapere tutto perciò perciò noi gli diamo l'informazione e se c'è un clima di pace di conoscenza delle cose creiamo un mondo migliore perché tutti abbiamo bisogno di un mondo migliore queste prepotenze così a gratuito non portano da nessuna parte e in questo momento Claudio sta affrontando molto serenamente ti dico e vedo che tutti quanti sono molto interessati a quello che dice e che non sono cioè non stiamo scherzando non sono cazzate queste queste sono le nostre vite da uomini vivi abbiamo fatto delle scelte perciò ragazzi sappiamo la verità sappiamo quello che è successo mettetevi da parte studiate verificate e noi possiamo passare in tutta onestà e verità e questo vedo che sta succedendo in queste ultime ore e chi non vuole ascoltare faccia la sua strada ma noi da uomini vivi possiamo farla e come diceva giustamente Stefano lo facciamo anche per loro perché ci mettiamo anche nei loro panni e non deve essere facile non deve essere facile perché con un ragazzo che stavo parlando sempre poliziotto lui mi ha detto mi ha detto delle cose molto molto belle mi ha detto ma senti ma anche tu hai la macchina con la targa e io ho detto guarda ho la targa quella normale ma a breve metterò anch'io la targa viola ma ma hai l'assicurazione e gli ho detto guarda al momento la sto pagando ma io e tutti noi stiamo facendo dei percorsi in cui sapendo delle verità e sapendo che agiscono in frode vogliamo agire invece in legge in legge naturale per il bene di tutti e lui mi ha detto sei una grande se sei sei hai se fai queste scelte sei una grande per me la serata mi ha riempito di gioia e di veramente tanta tanta gratitudine poi ho visto sempre lui un poliziotto molto fedele ai suoi superiori di seguito anche lui ha vacillato comunque ha usato violenza anche lui ma in un certo momento l'ho visto in serie difficoltà perché quando gli hanno ordinato di tenere il cofano aperto gli ho detto forse forse nella chat si vedrà ma gli ho detto ma senti ma proprio a te ti hanno messo a tenere il cofano aperto perché tu ho detto fai finta di svenire non ho capito non ho capito non sento non era voluto non era voluto ecco io gli ho detto fai finta di svenire cadi a terra e il cofano lo chiudo io e lui mi ha guardato veramente con un tono compassionevele come per dire mi hanno incastrato perché lo hanno incastrato lo hanno incastrato povera anima anche lui in questa cosa ed è stato l'unico che ho parlato con lui ho parlato con l'uomo ecco questo sì ed è stato molto bello purtroppo anche lui sarà in questa brutta faccenda ragazzi ognuno deve andare avanti con le proprie scelte con le sue responsabilità di seguito sicuramente questo ragazzo perché ha detto che il primo giorno di lavoro qui a gorizia e un po' ci ho scherzato su perché gli ho detto beh ho detto dai proprio che culo il primo giorno di lavoro si trovi in questa situazione e allora sì ti dico ho sentito veramente l'uomo dietro la divisa la maschera che hanno e dirò mi fanno un sacco di compassione queste mascherine tante 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 veramente e così è insomma è stato ti dico ci sono stati anche dei momenti di belli belli ecco e niente qui stanno continuando a parlare con lui stanno anche sorridendo io penso che loro abbiano un timer in questa cosa non so dettemi voi secondo voi potrebbe essere secondo me scusami Marina secondo me adesso deve essere Claudio a fargli pressione dell'interno perché perché adesso si sono un po' smorzati i toni c'è il sorriso allora deve essere lui a fargli capire oh e io mi sono stancato devo andare pure a casa ci avrò una casa sì guarda questo è già successo l'altra volta perché lui mi aveva raccontato che l'altra volta lui ha detto beh ragazzi adesso basta quando è finito il turno 20 minuti ok 20 minuti poi io vado cioè non sto qui questo è già successo l'altra volta e questa volta non potendo sentire niente di quello che succede lì dentro non posso riferirvi nient'altro ecco non so i discorsi poi insomma sicuramente domani lui ci riferirà quello che è successo purtroppo dall'interno i discorsi non si sentono ma di fuori i poliziotti a me qui vicino stanno sentendo tutto hanno le chat possono informarsi insomma sicuramente sono delle persone che hanno un cervello e sanno leggere scrivere insomma se hanno avuto un diploma di questo tipo evidentemente hanno anche la facoltà di leggere no dei documenti però ti dico c'è muro 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 qui fuori nessuno meno dentro vedo delle visi sorridente Cioè, oddio, sorridente è una parola grossa, però sereni, sereni, ecco. Marina? Dimmi. Ricorda ogni tanto che siamo ancora alle 12.30 in 66 in chat, in diretta. Sì, in diretta 66 di noi ragazzi in chat. Non ti piace il discorso, cara, ma questo è, questo è, sarei famosa dal domani. In tutta Italia, anche tu. Anche se non ci dite i nomi, sappiamo sicuramente a breve i vostri nomi, sappiamo il vostro orario di lavoro. Il mondo in Italia, sarà diffuso in tutto il mondo. In tutto il mondo, hai ragione, hai ragione. Agorite veramente in questo caso. Sì, sì, sicuramente in tutto il mondo, perché noi qualche volta ridimensioniamo il tutto, ma è tutto il mondo che vedrà queste chat. Sì, stanno arrivando, hai già detto, che sono arrivate le tue. Vado con me, ma non lo so, però, però, facendo questo giro sei... Dimmi? Dimmi? No, è che ogni tanto sono aperti i microfoni, io sto facendo... Comunque volevo dirti che io sto riprendendo dalla Germania, giusto così per il... Dalla Germania, ragazzi! Sì, perché abito in Germania, quindi ho aperto da qua. Ah, che picco, in diretta dalla Germania. Ma poi su YouTube hai voglia, hai voglia su YouTube, perché io tante volte le dirette, tutti non abbiamo il tempo di sentirle, ma sì, su YouTube poi tutti vedranno la replica, perché insomma qui c'è un tom-tom non da poco. Ecco, una cosa, se ho capito giusto, sono state già inviate le PEC? Sì, io ho anche l'ho inviata, però di noi l'ho inviata, non so. Ah, ecco, no, ho sentito che sono state già inviate delle PEC a riguardo. Sì, sì, inviata, inviata. E poi i superiori sanno tutti. Io adesso vi inquadro un po' la situazione dentro, voi la riuscite a vedere? Sì, vediamo. Ecco, sì, si vede dentro, è un attimino di stasi, sì, Claudio è lì che ha rovista nelle sue cose, allora ci ha detto che i suoi occhiali li ha persi, perché nella collutazione purtroppo li ha persi. Adesso vediamo, ah, sta mettendo gli occhiali da sole. Adesso, credo, dovranno come minimo ripagargli gli occhiali, come minimo. Non lo so perché è stato portato di forza fuori dalla macchina, perciò nella collutazione è già tanto che non gli siano scappate le ciabatte che ha i piedi. E Claudio, avendo problemi alla vista, ha difficoltà a vedere in questo momento, sta mettendo gli occhiali da sole per sicuramente avere un sollievo, ecco, in questo senso. Forse sono rimasto nella macchina che hanno portato via. Ma comunque adesso lo vedo che è un po' più rilassato, sta vedendo di discutere, chiarire la situazione con quei poliziotti che li stanno a fianco. Allora, ecco, adesso Claudio si è alzato, vediamo se ci saluta. E il tempo? Non ce l'hai l'orologio? L'orologio? Eh, anche lui non sa niente. Anche tu non sai niente? Eh, non sente neanche, sì. Vabbè, è difficile, è quasi impossibile parlarci oltre il vetro. Eh, sì, continuo il movimento di, io continuo a camarli i carabinieri, non so perché, ma avrò offeso mille volte qualcuno oggi sicuramente. Scusa Marina, puoi procurarti carta e penna e scrivere su un biglietto, da far vedere a Claudio, che sono passate otto ore dal fermo e in otto ore non sono stati in grado di identificare o comunque di fare gli accertamenti, ma al di là di questo scrivere su un biglietto che dopo otto ore dal fermo diventa sequestro. Scriverglielo su un biglietto e piazzarlo sul vetro, puoi? Qualcuno di voi ha carta e penna, ragazzi? Io non posso vedere. Ma purtroppo non vede se non ha gli occhiali. Ah, ok, ma penso che lo vedrà la polizia. Scrivetelo bello in grande, in modo che comunque anche se non ha gli occhiali riesca a capirlo. Ma se ha messo gli occhiali da sola vuol dire che sono da vista, che almeno... Non si può dire al poliziotto di recuperare gli occhiali della macchina di lui? Scrivete sul biglietto, sono passate otto ore dal fermo, sei in questo momento in stato di sequestro illecito. Lui, Claudio, ha detto che non sanno ancora dirglielo. Allora, mi suggerite cosa chiedere di essenziale? Perché rispondono niente, perciò mi suggerite cosa... Allora, devi scrivere, sono passate otto ore dal fermo, punto. O danno una giustificazione o lo rilasciano. Allora, sono passate otto ore. A questo punto è sequestro. No, 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 Marina, sono passate otto ore dal fermo. È successo alle quattro e mezza, hai detto, giusto? Quindi dalle quattro e mezza alle dodici e mezza sono passate otto ore. Quindi devi scrivere, sono passate otto ore dal fermo, punto. Sì. O mi date una giustificazione del fermo, sequestro, o mi rilasciate. E deve essere imperativo, Marina. Non chiedere scusa e non chiedere posso. Sì, tra bene. Posso dire una cosa? Scusate, posso dire una cosa? Sono Barbara, mi sentite? Sono Barbara, mi sentite? Sono Barbara, mi sentite? Ti sentiamo qui e dici. Ok, allora, questo è il momento che è come tutti i momenti che è lui che deve uscire da lì dentro. Ok? Lui deve uscire da lì dentro. È capacissimo di farlo. Capacissimo. Fatto sa che se stiamo ancora qui è perché lui non sta cedendo, ok? Lui non sta cedendo. Quindi io mi scuso, non ho parlato ma ho ascoltato. Quindi è lui che è uscito da lì dentro. Adesso che non ho visto. Mi dici Marina, dov'è? Dov'è Claudio? Claudio è seduto sugli scalini. Ora lo vedo, lo vedo, grazie, grazie. Grazie. Perfetto. Guarda come sta tranquillo, guarda. Sì, sì, sì. Deve uscire lui dal di centro e quando vorrà lo farà. Anzi, chiamalo Marina Dì, è ora che... Mandamogli un messaggio. Sì. È ora che andiamo a casa. Brava, brava, l'ha detto prima io questo. Allora gli chiedo, Claudio, ordini di uscire? Esatto, basta. Sì, sì, capito? Vieni. Ce la fai. E basta. Eh. Eh. È così. Lo può fare che solo lui. Solo lui. Ok? Vi ascolto. Adesso forse è ancora una cosa. Si sta scusando, vedi che si sta scusando quello, vedi? Marina, resta sull'inquadratura. Sì, sì. Sono sull'inquadratura, te lo credo. Siamo? Siamo sull'inquadratura? Sì, sì, assolutamente. Grazie. Sì, sì, resta come sei. Resta come sei. Facci vedere cosa stanno... Si sono stati la mano, adesso vediamo cosa succede. Eh, diciamo che l'altra volta Claudio gli ha detto, guardate, io aspetto 20 minuti, come mi avete detto, poi io esco. E di fatto è successo questo. Se questa volta non esce, evidentemente c'è qualche possibilità di... Non lo so, sarà una situazione diversa. Adesso vediamo quando finiscono di parlare se... Vediamo se Claudio ha la possibilità di vederci e leggere nel biglietto. Ce la fai? Sì. 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 Ecco sto chiamando Claudio, gli ho scritto nel biglietto. Tra poco ci sarà il crollo. No, ti hanno detto di no, che non puoi uscire. No, perciò dopo otto ore, aspetta che ti scrivo il biglietto, dopo otto ore tu sei sequestrato. E lo devono scrivere? Te lo scrivono? Aspetta vediamo se Claudio... Te lo scrivono? Che sei sequestrato? Non so niente. Non riesce a leggere? Non dicono niente, neanche non... Sì, ha letto, ha letto. Ha letto, ha letto. Dice che non dicono niente. Sì. Vediamo se lui ha carta e penna. Magari scrivi il biglietto, con un foglio grande. Sì, non ho costruito, ha letto. Adesso vediamo cosa dice Claudio. Adesso Claudio sta cercando di parlare con noi. Vediamo cosa ci scrive. Se cedono le forze a noi, devono cedere anche a loro, no? Quattro e mezza mi devo alzare. Sì, sì. Mi domani alle nove parto per Brescia, se vi faccio solo questo. Fare una gara, bene. Tra mio papà, tra andare, dopo venire... Vediamo cosa ci dice. Allora, non parlano, vogliono il mio... 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 Resisti, resistenza passiva, resta lì tutta la notte. Sì. Claudio, mi senti? Ma non sente Claudio. Claudio non sente perché non sentiamo neanche noi a lui. Allora, vogliono il consenso, sì. Per la foto, segnaletica e impronte. Io nego il consenso. Io nego il consenso. Fatta. Bravo. Bravo. Identificiamo in quello che... Ok. Ok. Perfetto. Viva la tuttura. No. Non ho capito. Proprio alla grande. Foto segnaletica. Come delinquenti. Impronta. Così sei segnalato dappertutto. Ma dai, dai. Buffoni. Buffoni. Un crampo la mano. Questo rideva tanto fino a un momento fa. Non ride più. Ecco, siamo in 66 in Ciazza. È felice? È felice? Siamo in diretta italiana e anche mondiale. Ci sono persone dalla Germania. Dalla Svizzera. Anche dalla Sicilia, isole Olia. Anche dalla Sicilia, isole Olie. E anche da noto. Sono Carmela. Sono con Rosanna Zerbini. Da Mantua. Da Mantua. Campania. Alla Calabria. Calabria. Alla Calabria. Calabria. A Genova. Dalla Burkana. Lugia. 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 Asti. Lugia. Sbelluno. Sbelluno. Abruzzo. Ebbene. Credo che non siamo tutti. Siamo solo una fetta di sequestro di persona. Eh sì, ragazzi. Adesso dovremmo. Sequestro di uomo vivo. Sequestro di uomo, non di persona. Scusate. Scusate, ho parlato al facente funzione perché l'unico gergo che comprendono è questo. Perché se gli dici uomo vivo loro non fanno finta di niente. Sequestro di persona. Siete colpevoli di sequestro di persona nel vostro codice che cito ma non riconosco. Sì, ma ti dico, Claudio sa molto bene la sua posizione, perciò adesso li sta informando sicuramente di tutto. Allora dovete sapere che a Giampiero gliel'hanno estorto il consenso perché lo hanno costretto a dare l'impronta digitale e la fotosegnaletica quando lo hanno arrestato. Ma perché lo hanno rinchiuso dentro la caserma ed era con tutti i carabinieri. Lo hanno minacciato, che lo prendevano a botte. Ma vediamo un minaccio. E sequestro, giusto? Lei la sa la legge? La sa la legge. E sequestro, giusto? E sequestro? Anche il sangiero lo hanno sequestrato. Ora, il sequestro? Commettendo reato. E' fatto di sequestro di persona. Uomo vivo, non persona. Sequestro di persona. Uomo vivo. Questa è una domanda in tribunale degli altri. Sequestro di persona. E perché? E non dichiara che sequestro questo? Sequestro. E allora perché lo protottenete? E la vostra legge è questa. Ma non esiste solo il sequestro. E' il trattenere una persona. C'è solo sequestro qua adesso. E' un sequestro di persona, mio caro collega. E la vostra legge è un attore. E' purtroppo ignorante in materia. Perché non lo sa che dopo autore e sequestro e devono rispondere. Violano, ragazzi, le loro leggi. Marina, dille che qui c'è anche un partecipante che ha lavorato per 25 anni in una forza dell'ordine. Quindi le cose sono molto chiare. E loro non ci possono permettere di fare quello che stanno facendo. E' un sequestro di persona bello e chiaro. Se nessuno affronta. Eh, lo so. Però con chi potrei avere un confronto sta negando la parola e scappa via perché non sa cosa rispondere. Questi sono tutti, sono tutte persone. Vediamo, forse rispondono. Ci vuole rispondere lei magari? Cosa sta succedendo? Un sequestro? Lo vorremmo capire se è un sequestro. Eh? Sono passati otto ore, signori miei? Sono codardi. Eh, la parola giusta è codardo. Sì, la parola giusta. Io direi anche delinquenti. Ma se proviamo a fare una telefonata all'interno e chiedere del... Esatto, stavo pensando la stessa cosa. Marina, riesci a recuperare il numero di telefono. Speriamo il coraggio di alzare la cornetta. Fatelo, se hanno il coraggio di alzare, ma... Dubito, dubito. Non vedo uomini qui attorno a me. Trovate una serie di numeri di telefoni, di magistrati. Esatto. Trovate, provate a cercarli lì in zona. Passateceli in chat e incominciamo a chiamare direttamente. A mezzanotte. Bravo, bravo. A mezzanotte, sì, sì, sì. Esatto, in piena notte. In piena notte. Tutti i posti di polizia ci sono nella zona. Incominciamo a tampinarli di telefonate dicendo che stanno sequestrando alla frontiera un uomo vivo. Certo, numeri di telefono. Dai che lo facciamo. Siamo in 66. 66 che incominciano a disturbare tutta questa situazione. Stefano proponevano di telefonare in tutte le questure, carabinieri, poliziotti, per... Loro lo stanno facendo. Sì, infatti, no, dato che io sono qui al telefono. Se volete che qualcuno se la sente. Noi qui siamo veramente stremati. Adesso vedo perché abbiamo tanti cellulari scarici, no, ancora qui. Allora, Marina, perdona, mi posso dire una cosa? Io rispetto a questo lascerei ancora il tempo a Claudio di fare quello che si può fare. Sì, perfetto. Perché lo vedi che tutto intorno si è placato. Hanno capito che stanno davanti a qualcosa che non possono fare. Allora forse si domandano anche se potevano fare quello che hanno fatto prima. E forse non potevano fare manco quello che hanno fatto prima. Ok? Quindi in questo momento quest'area è... Boh, silenzio. Allora se c'è da chiamare qualcuno, il magistrato di turno. Dove sta il magistrato di turno? Dove sta in questura? Allora bisogna chiamare la questura e chiedere del magistrato di turno. Perché c'è questa situazione e questa socializzazione non è... Allora se trovate il numero della questura e dove c'è, posso chiedere del magistrato di turno, come sovranità dell'ordine, con una confusione, ma con un ordine. Quindi con la sovranità dell'ordine, una telefonata per dire quanto deve durare la cosa ancora. Quanto? Ok Barbara, ho il numero della questura di Gorizia. Se volete segnarlo. Ho il numero della questura di Gorizia. Se chi farà la telefonata da lì in presenza vuole segnarlo, gliel'ho detto. È 0481? E noi che siamo in presenza. Ok. Lo metto nella chat. Stefano, tu sei anche in presenza. Sì. Ti senti di parlatura la telefonata con la sovranità dell'ordine? Con la sovranità dell'ordine? Cioè, perché non ci sei tu nella sovranità dell'ordine? No, sento niente. Voi a parlarmi. Stefano, mi senti? Adesso sei. Stefano, mi senti? Ok. Allora, tu sei parte della sovranità dell'ordine. Quindi, chiamare la questura e chiedere come sovranità dell'ordine, quindi pubblico ufficiale, pubblico notaro, esecutore fallimentare del World Bank, e quindi anche della Italia Republic of Europe, e chiedere il magistrato di turno, perché è il magistrato di turno che manda l'ordine e dice stop, io non so se ti ricordi l'esperienza della Tirregna per passare il porto. Signora, sì, ecco, lei adesso torna con questo tono, esattamente con questo tono, vedrà che la fanno passare. Ok, vedrà che esce. Chiaro, Stefano? Se vuoi, chiamo io, però tu sei lì presente. Il numero è in spazio. Sì, grazie, grazie, Alessio. Cosa mi dici? Vuoi provare a chiamarla tu? Allora, perché io sono sentito a telefono adesso, mi faccio tutte prestare il telefono. Allora, adesso no. Ok. Mi servirà di trovare il numero. Allora, il numero è nella chat, non è quello, non è il problema del numero, il problema è se te la senti. Se lo fai tu o meglio? Va bene. Il magistrato di turno. Ok? Mi ricordate come fa di cognome Claudio? Claudio o Paolini? Paolini. 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 Ok, una registrazione nella registrazione. Ok, c'è la chat. Mettetemi in chat. Se vuoi te l'ho detto direttamente che l'ho preso io. Ma io devo attaccare, ragazzi. Devo telefonare alla questura e attaccare. Ma io non me lo copio tutto. Scusate, una piccola nota tecnica. Noi, siccome adesso Massimo potrebbe mandare in YouTube, io vorrei chiudere questa Zoom, che così la converto, entrare in un nuovo link, che è anche stata la proposta di Elena, secondo me è una cosa intelligente. Io, se volete, vi metto qui il nuovo link nella chat, così, oppure non so dove lo devo mettere, che così chiudiamo questa e ne apriamo un'altra. Marina, hai sentito? Sì, sì, va bene. In fase di registrazione, ok. Ci siamo? Ci siamo? No, stavo registrando perché c'è stato un attimo un intervento di altre divise mimetiche con delle armi abbastanza minacciose. Eravamo preoccupati e loro, i poliziotti, ci hanno detto che tutto è a posto. Insomma, sono andati via perché era un controllo, che tipo di controllo sul confine? Era un tipo di controllo? No, in realtà, se sono un punto, da qui poi vanno a controllare le altre condizioni. Ah, ecco. Sì, ok. Marina, senti? Sì, di me. Ascolta, il telefono di Maira ha un'importazione di filtraggio dello schermo. Si vede tutto fuori fuoco. Può togliere le impostazioni oppure ti connetti col tuo. Allora, torno nella chat col mio. Chiudo? Ecco, ecco, ecco. Ok, ok. Ok, scendi. Ok. No, ci siete? Mi vedete? Aspetta. Deve aprire il video. Ecco, sì, eccomi qui. Ecco, ci sono. No, chiedevo a questo signore se lui sa dirmi se è un sequestro di persone. Non sa perché, perché sono passate otto ore. Io sono appena arrivato. E' appena tratto. Ma lei sa quello che è successo? Eh, c'è stata una violazione non da poco, eh? Voi avete cambiato il turno, ma... No, no, noi ci abbiamo smontato. Tutti hanno smontato, noi no. E non ci sanno dire se dopo otto ore è un sequestro oppure meno. Sì? Dovete passare? No, stiamo qua. Ok, va bene. Sì, perché guardi, lo hanno, lo aggiorno, lo hanno trattenuto. E' un esercito. E' un esercito, veramente, è una cosa incredibile. Ci sono... Cioè, siamo veramente... C'è una cosa incredibile, un movimento incredibile, ma tutti quanti, perché siamo in una settantina di persone in chat, in diretta. Qui ci sono persone dalla Germania. E' tutto stato filmato dall'inizio alla fine. Qui c'è stato un cambio turno perché le persone che erano stanche. E sto provando a chiedere a questo signore se sa dirmi se dopo otto ore di trattenimento in questo modo può dichiararsi un sequestro oppure mi giustificano in questo modo che lo stanno trattenendo e per che motivo? Lei non sa rispondermi? Sì. No. No. Ma? No, io ho appena montato. Non so se si è successo. Ho appena montato. Ma con chi potrei parlare? Cioè, perché siamo qui da qualche ora in modo pacifico a sapere come mai il signore non può uscire di qui se non ha fatto di fatto niente e siamo qui a sostenerlo perché è una frode questa, no? È una violenza bella e buona. Vediamo, Claudio, se ci racconta qualcosa. Allora, non mi stanno dicendo perché sono trattenuto. Me lo danno, me lo diranno appena hanno finito di scrivere. Ah, chiedere se vale la pena di ritirare. Se sì, mi serve una penna viola. C'è la penna. Sì, sì, c'è la penna viola. Ritirare? Sì. Sì, guarda. Allora, vediamo. Ritiro o no? O no? Ritiro o no? Da chiedere. Oh, no, no. Secondo me no. No, non deve ritirare. No, no. È un uomo piccolo, non ritira. Sarà intestato alla funzione giuridica, per cui non è lui. Quando vi rivolgete, quando parlate, dite uomo, non dite persona. Perché sennò lo riconoscete voi nella persona. Anche quando parlate. Marina, dia a Claudio di resistere. Sì, sei uomo, resisti. Brava, Marina, sei grande. Scrivi resisti. Una lettere d'alcanza. Resisti? No? C'è il bar. Scrivi resisti. Cos'è? Il bar? Dei facenti funzione. Marina, di a Claudio che dalla sovranità dell'ordine, Barbara sta cercando di parlare con un magistrato. Un attimo. Sì. Allora, hai capito? Sì, adesso lì lo scriviamo. Dalla sovranità dell'ordine. Scusate, è stata mandata la PEC dalla sovranità dell'ordine, giusto? Con un magistrato, giusto? Sì, è stata mandata la PEC. Dalla sovranità dell'ordine, giusto? Oltre che dal popolo, ma ha mandato la sovranità dell'ordine? Esatto. E poi abbiamo un animaletto in gabbia. Nessuno mi sa rispondere? Adesso, adesso. Un attimo lo facciamo. Stiamo avvisando Claudio di quello che ci avete detto e sta leggendo. Perché dobbiamo scrivere. Ecco. Claudio ha recepito. Ok. Roberta, non lo sappiamo noi. Come è possibile? Scusate, ma come è possibile che non si può comunicare con questa... Vi sembra umana? Cioè, questo c'è... Allora, scrivetemi che non deve ritirare. Scrivetemi che non deve ritirare. E uno di là. E noi ci parliamo. Anche perché parliamo di fronte a voi. Ci sembra molto ridicola, assurda, allucinante questa situazione. Ci chiediamo solo di parlare, non di... Cioè, se tu ci socchiudi la porta, noi tranquillamente... Noi siamo disarmati. Vediamo cosa ci dice Claudio. Allora... Qualcuno ha visto dove è andato il caro attrezzi? Purtroppo la tua macchinina... No, secondo me non è l'unico abilessere. Solo quelli che prendi tutti i mezzi sequestrati, no? Ok. Puroso leggi per io. Allora... Se non ritiro non lo posso sapere. Ah... Se non ritiro cosa? La carta. Allora... Se non ritiro... Se non ritiro quello che non... È un bel recatto questo. È un recatto? È un recatto? Marina! Marina! Marina, ascolta. Gli studi... Ma di leggere dicendo... No, quello è notificato... No, è solo il... Ah, ok. Che loro... Il foglio deve migrare dove la macchina... Hai capito? Su questo foglio che loro glielo vogliono dare. Lui non lo ritira, però leggi quello che c'è scritto e lì ci sarà indicato quello che lui serve. Però non ritira il foglio. Lo legge. Senza toccarlo. Marina... Sì, dimmi. Aspettiamo anche... Aspettiamo anche di sapere l'esito della telefonata di Barbara. Sì, va bene. Cioè, stiamo calmi. Abbiamo aspettato fino adesso. Aspettiamo ancora un po'. E tranquillizzate Claudio. Siamo stati qua fino adesso e continueremo a rimanere qua fin... Finché servirà. Scusate, la mia domanda di chi ha mandato la PEC della sovranità dell'ordine era perché con la scusa e quando le daranno questo foglio che lui vuole dichiarare qualcosa, invece di dichiarare qualcosa scrive sopra il numero OPEC della PEC, ok? Quindi è l'unica cosa che lui dovrebbe scrivere sopra quel foglio è il numero OPEC della PEC inviata. E con quella scusa si legge anche dove è andato il carroattrezzi. Però deve avere il numero OPEC. Ok. Per non dichiarare nient'altro. In questo momento lo può fare anche domani? Può farlo anche domani, non lo so questo. Però dal momento... Perché abbiamo difficoltà a scrivere, abbiamo poca carta. e allora gli stiamo comunicando le cose necessarie da dirgli in questo momento. Ecco, vediamo cosa c'è da dirci ancora. Però se non abbiamo il numero OPEC, invece così... Allora non ce lo possono avere. Non loro, qualcuno in chat. C'è qualcuno qua. Prego. Chi può chiedere il numero OPEC? Claudio? L'ho già chiesto diverse volte. Però... Chi ha mandato la OPEC dalla sovranità dovrebbe... Darcelo. Darcelo. Ma non riusciamo a... Sì. Ok. Non so, dobbiamo comunicare ancora qualcosa a Claudio? Perché abbiamo detto aspettiamo la telefonata di Barbara. E questo che ti ho detto adesso? Ha scritto che non può usare il cellulare. Sì, infatti. Ha scritto che non può usare il cellulare. Non so, dobbiamo comunicare qualcosa di importante in questo momento a Claudio? Sì, che gli dessero da mangiare e da bere. Ecco. Fatti di avere la penna. Perché sono autore. Ma tanto da mangiare, tanto da mangiare. Deve ordinare al ristorante. Al ristorante scrive. B. 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 Al ristorante. Ancora, senza una contenita. E anche noi a questo punto. Infatti, il caffè non ve l'hanno permesso. E se dovesse fare la pipì come la mettete? Noi al momento ancora non l'abbiamo fatta. Ma infatti sto pensando a voi io anche. Ma non potreste mai andare dentro a fare la pipì, quindi? C'è fuori il bagno. C'è fuori il bagno. Ah, c'è il bagno fuori. Marina, nella chat c'è il numero della becca. Esatto, lo volevo dire io. C'è il numero della becca. C'è l'OPEC, cioè la registrazione. Sì. Sì, ok. Allora, lui scrive. Quelli vogliono che tocchi la bottiglia per le impronte. I servizi segreti italiani. Prendila con la maglietta, la bottiglia. Prendila con la maglietta, la bottiglia. La bevi e gliela ridai. Se vuoi te l'ho detto il numero OPEC. Da scrivere. La bottiglia, bombo, ok, non ha sete. Ok, sì, sì. Servo la penna viola. Questa? Scusate. Date l'OPEC, datele. Marina. Scusate un secondo. 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 C'è un messaggio di Barbara. Barbara, aspettate che l'ascoltiamo. Fermi. Ascolto. Ma poi ne avete un'altra? Ragazzi, c'è un aggiornamento tecnico. Chiedo scusa ulteriormente. Un altro link nuovamente, perché da qui non possiamo mandare la live per donare l'esperienza. Allora, usiamo? C'è un nuovo link sull'utentegrità. Deve essere entrata Marina. Sì, ragazzi, abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma siamo qui. Allora, la situazione è che abbiamo comunicato con Claudio. Avete sentito prima cosa ci ha detto Claudio? Beh, comunque la situazione è che hanno fatto dei cambi turni. Qualcuno è più riposato, altri meno. Queste sono le mascherine fuori, qui. di vari colori e la situazione dentro è che Claudio, le abbiamo detto, che Barbara sta telefonando. Avete notizia di Barbara? Gli hai passato il numero OPEC della PEC? Sai che abbiamo perso un pezzo? Nel senso che cosa mi vorresti dare? La PEC di cosa? Nella chat c'è il numero OPEC della PEC che è stata inviata dalla Sovranità dell'Ordine. Scrivi a Claudio che la può inserire su quel documento che vogliamo dire. Allora, gentilmente, qualcuno di voi me la può addettare? Sì, te l'ho detto io, te l'ho detto. Leggi il messaggio di Claudio adesso, che ti sta dicendo qualcosa. che ci vuole ancora 30 minuti. Ancora 30 minuti e dopo sei libero. Vieni fuori. Allora, Marina, scrivi intanto questo codice. Sei pronta? Sì, ho un aiuto. Allora scrivi OPEC, tutto minuscolo. OPEC. Minuscolo? Minuscolo? Ci sei? Sì, minuscolo hai detto. 2, 1, 0. No, no, devi rispettare. Scusa, scusa, in piccolo OPEC. Tutte le lettere in minuscolo. Esatto, tutto minuscolo. OPEC. Le lettere in minuscolo. Sì. O, P e C. Poi, tutto attaccato. 2, 1, 0. Sì. 3, 1, 2. Sì. Punto. Punto. Sì. Ok. 2, 0, 2. 2, 0, 2. Esatto. 4, 0, 8. 4, 0, 8. 3, 0, 2. 3, 0, 2. 0, 5, 8. 0, 5, 8. 2, 1, punto. 2, 1, punto. 1, 9, 0. 1, 9, 0. 4, 8, 2. 4, 8, 2. 4, 8, 2. Punto. Punto. Sì. Punto. Punto. 3, 2. 3, 2, 0. 2, 0. Sì. Punto. Punto. 1, punto. Sì. 5, 4. Sì. Ciocciola. Sì. PEC. Sì. Punto. Aruba. Sì. Punto. IT. Punto IT. Ok. Allora. Questa formula però. Possiamo riprenderla. Possiamo riprenderla. Allora. Ve la ripeto velocemente? Sì. Vai dai. Otranto, Palermo e in Policomo. 210312.20240830205821.190482.320.1.54. piocciolapec.aruba.it. Sì. Pec. Aruba. Punto. 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 Sì. Sì. Ok. Perfetto. Sì, sì. È già scritto. Sì, sì. Perfetto. Ok. Tutto ok. Questo lo do a Claudio. A Claudio e dovrà trascriverlo sul documento che continueranno di fargli filmare. Allora, scusa, devi trascriverlo. Sì, aspetta. Devi. Aspetta che mi prendo. Marina, ascolta, lui non è obbligato a trascriverlo. Se non riceve alcun documento non trascrive niente. Però se pretendono che lui per poter uscire deve firmare qualcosa, lui firma con questa OPEC. Ok? Sì. Allora, aspetta, aspetta. Marina, lui non deve firmare con l'OPEC. Lui, nelle dichiarazioni eventuali che gli vengono richieste, se fanno un verbale, dovrebbe inserire solo l'OPEC, che è riferimento alla PEC che abbiamo già inviato. Ma non deve firmarlo il verbale. Non si firma niente. Esatto. Cioè, praticamente firma con quella PEC, con quel numero. La sua firma sarà quella. Io credo che questo lui già lo sappia. Però glielo specifichiamo. Marina. 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 Dimmi, dimmi, dimmi. Questo gli serve anche, mentre lo scrive, di sbirciare quello che c'è scritto sul verbale. Così verrà conoscenza di dove è stata portata la macchina. Però poi non firma niente. Chiara soltanto la PEC che è stata, diciamo così, protocollata, no? Che è stata ricevuta. È inviata dalla Sovranità dell'Ordine. Ok. Ok. Adesso cerchiamo di fare il riassunto del riassunto. No, no. Non devi fare un riassunto. Devi scrivergli semplicemente un biglietto dove dice qualsiasi cosa ti faranno leggere, leggila. E poi, invece della tua firma, inserisci questo codice dell'identificativo PEC. Ok. Mentre scrivi. Ragazzi, ho bisogno di parlare un attimo. Un secondo solo di pazienza che stiamo cercando di scrivere a Claudio. Certo. Allora, non si può parlare, firmare, mai. Ma questo è sottointeso e lo sa benissimo. Allora, cosa devo scrivere? Allora. La PEC, la ricevuta della PEC. Sì. Allora. Non firmare mai, metti che quelli in evidenza. No, non si può parlare. Ok. Devi scrivere il numero della PEC. Allora. L'ha già trascritto? Sì, ma lui deve scrivere sulla... Quella missaria l'ha ricevuta. Giusto? Ragazzi, mi aiutate per piacere che siete più freschi, forse. Quello è il numero identificativo della PEC che è stata inviata. Ok, ok. Questo ha il posto della... No, Marina, digli che è il numero identificativo della PEC che è stata inviata. E' il numero identificativo della PEC che è stata inviata. Merda, non mi scrive più la penna, ragazzi, la penna. Marina, quella roba lì va inserita eventualmente nelle dichiarazioni che gli vengono richieste se gli viene fatto un verbale. Quindi quella roba lì non va messa al posto della firma. Quella roba lì va messa come dichiarazioni. Eh, come si fa a scrivere? Non ho carta, non ho penna. Non abbiamo più niente. Ma qualcuno ha un po' di carta. Ma scusa, ho preso ancora un pezzetto qua. Gli diamo il telefonino così? Dai, scusa, ho preso ancora un pezzetto qua. Marina, scusa. Sì? C'hai Stefano Craneluti, è vicino a te? Prego, prego. Stefano, è vicino a te? Eccomi qua. Stefano, ascolta. Sì. Barbara ha telefonato alla questura. Sì. Ha avuto un po' di vicissitudine. Allora, abbiamo fatto una registrazione audio perché il telefono suo non manda più gli audio. Ha mandato un audio in copera ma non funziona. Io adesso te lo faccio sentire, spero che si senta e dimmi se si sente. Lo faccio partire direttamente come registrazione perché non saprei come fare se no. Ok, proviamo? Proviamo? Perché dovresti fare te probabilmente una telefonata. Ok. Allora, questa è una questione attenzionata. Ho chiamato al numero che mi è stato fornito durante la Zoom, la questura di Morizia. Mi sono presentato come un pubblico ufficiale della zona di Gato dell'Ordine e ho fatto presente comunicando chiaramente che cosa stava succedendo alla frontiera. Mi è stato detto subito che non mi avrebbero potuto passare nel questore, nel momento di terrore comunque, nel questore né il magistrato di turno e che avrebbero venuto chiamare il 116 che me lo avrebbero passato loro. in questore, bisogna, nel 2011, è chiaro che io stavo in terra da Campana, nel 112 mi ha risposto e quello che è una coltura di riferimento e quindi, al mio racconto, e alla mia ripiense di valore confruttore, mi ha fatto comprendere chiaramente che il costore non era un luogo dove lui avrebbe dovuto passare di niente e quindi è creduto fosse anche, non so, in qualsiasi modo, in vero simile. A quel punto io ho richiamato la vettura, mi ha risposto un altro e un secondo operatore, che mi ha detto che, quando ho capito, mi ha detto che, allora le passano la frontiera, non ho andato in termina frontiere, le passano la frontiera e quindi ne ha portato la frontiera. io ho chiesto che lì era trattenuto contro la sua volontà, un uomo vivo, ma un uomo che io ero uno dei partecipanti alla Zoom che stavamo guardando, quindi ero il testimone di quello che stava succedendo e che quell'uomo vivo era uno del popolo e se luttavano avrei voluto parlare con un superiore, volevo parlare con un superiore, volevo parlare con un superiore il mio padre, non mi ha detto che non ho chiesto di chiamare la vostra, non ho chiesto di chiamare la vostra, a quel punto mi hanno attaccato, e io continuo a dire che questo è il numero che mi hanno appasso per lei, che mi hanno apposto per la vostra, se lo so, ma deve richiamare per chiamare la vostra e mi ha attaccato e ad esempio a certo punto mi hanno chiesto di chiesto di corizia e tutte stesse volte non mi rispondono, quindi i totali disionore vanno continuate a fare con l'uomo vivo, rispondendo quindi con lo chiamo a tefano che al suo luogo e quindi per loro il centro dobbisite riferimento e subito immediatamente polizia e quindi chiamano 115 denuncia di fatti e allora tutto registrato che hanno anche il loro registri e quindi direttamente ok allora se ho capito bene bisogna chiamare 112 sì esatto devi chiamare 112 perché così almeno vieni registrato lì sul posto ok e gli spiega il motivo perché c'è a pudi chiari appunto che c'è un uomo trattenuto contro la sua volontà e quindi loro intervengono possono intervenire direttamente da lì ma lo devi fare da lì ok forza da lì ok va bene se fatto che hanno già chiamato adesso sì però riproviamo i 112 devi chiamare ok va bene ok 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 benissimo ok poi un'altra cosa che mi ha detto barbara da dire a claudio che se loro fanno il verbale all'uomo vivo e prendono le impronte all'uomo vivo che lo facciano pure e poi ne parliamo ok però deve essere deve essere indicato nel verbale il suo nome da uomo da uomo vivo non certo la finzione giuridica perché a quel punto lì se no allora non fa niente sì non dobbiamo mettere hanno sicuro fatto vedremo che sono scritto ma sicuramente come una persona fisica esatto esatto ok stefano scusa gira giusto la barbara perché probabilmente adesso abbiamo cambiati già tre questo si barbara è andata a dormire perché domani mattina c'è l'evento e quindi ha detto perché siccome diceva che non riusciva a ignorare allora posso dire una cosa io ero lì fino a 11 e mezza mezzanotte adesso non mi ricordo che ora abbiamo chiamato carabinieri tre volte e una volta comunque se abbiamo chiamato 112 la prima volta è stato chiamato dalla signora che era in macchina con claudio alle 4 e mezza o alle 5 dopodiché sono stati chiamati due volte verso le 9 le 10 e la seconda volta hanno detto appunto che non sarebbero venuti perché di parlare direttamente con un responsabile delle della polizia che cosa è possibile perché non rispondono dopodiché è stata fatta un'altra telefonata e niente da fare sì però adesso c'è da dire che sono passate quasi nove ore e quindi c'è un sequestro di persona di anzi va bene ed è per questo che dobbiamo tempestare i telefonati no siamo calmi da ogni luogo d'italia mi sentite sì ti sentiamo attiva allora praticamente ci sono dentro non ci si vede più scusa vediamo se capisco dentro comunque ci sono sei carabinieri ma sono carabinieri poliziotti adesso da chiedere la polizia lì non ci sono carabinieri qua chiedono stefano scusa finito di parlare tocca per parlare e poi io ho i marina non vediamo più video ecco ecco finito di parlare c'è scritto ecco 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 perfetto allora claudio chiede fammi vedere a vedere claudio chiede steve oppongo l'oppe oppongo l'oppe poi ritiro 1 o lascio lì l'oppe poi ritiro o lascio lì mi chiede legge e lascia lì lascia lì 2 lui deve scrivere deve scrivere l'oppe che per scusate deve scrivere l'oppe che per vedere dove stanno concentrata la macchina quello è lo scopo la funzione è l'oppe per sbirciare il testo capire dove è la macchina ti dà tempo grazie mi ma conto che se la possibilità del vetro almeno che saremo questo stiamo assistendo a un film una sceneggiatura di un film vedete che dentro ci sono praticamente sia i carabinieri che i poliziotti chiamiamo lo stesso dirà il 112 o no i carabinieri queste sono arrivate tre camionette di carabinieri vedere non c'è bisogno di chiamare nessuno sono lì mi hanno chiesto stefano adesso se vuole avvisare qualcuno a casa è visto si si continuate a filmare l'interno perché il sequestro di persona rimane documentato si si ha già fatto io sono in vici un bacio un bacio un po' un bocca al lupo un bacio il bacio si un'ora e venti dopo il sequestro effettivo altro che danni ma soprattutto dopo questo tutta questa registrazione tutti quelli che sono stati ripresi in questa situazione verranno recuperati da noi e io sono volevo solo informarvi che Davide mi ha rigirato il numero della questura di Torizia che per caso serve l'ho messo in chat ok cosa ha ritirato? ha trovato il numero della questura di Corizia il numero della postura è in chat della Zoom sì scusate il numero OPEC che avete dato non è quello giusto io ho quello proprio della sovranità dell'ordine per favore puoi rimetterla in chat ok mi sapete dire l'OPEC a che punto viene corretta? o me l'ha ridetto di nuovo? l'ha ridetto di nuovo ok ok sì allora OPEC sì sì 2 1 0 sì 3 1 2 sì punto sì 2 0 2 sì 4 0 8 sì 3 1 0 3 1 3 7 4 7 sì punto 1 8 9 sì 0 3 3 sì punto 4 6 1 sì 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 vai punto 1 punto punto 5 1 chiocciola chiocciola chiocciolapec.aruboaruba.it allora te la ridico velocemente va bene OPEC 2 1 0 3 1 2 punto 2 0 2 4 0 8 3 1 0 1 3 7 4 7 punto 1 8 9 0 3 3 punto 4 6 1 punto 1 punto 5 1 perfetto perfetto allora quella di Marina puoi scrivere come firma metti BECC come firma non come firma è una dichiarazione quella non è la firma non deve firmare niente sì sì per esempio allora come nota non si firma si mette nelle dichiarazioni questo non si non si mette niente dove c'è lo spazio per la firma perché loro possono prendere come firma anche questa roba qua allora ribadisco che la firma deve stare vuota esatto allora poco sopra c'è lo spazio per le dichiarazioni c'è sempre no che cosa nelle dichiarazioni mette questa e non firma quindi vanno a cercare quella roba lì come dichiarazione allora esatto ok adesso vediamo di chiamare Claudio ha fatto muro però non è più vicino dal vetro ecco sta leggendo perché non possiamo aprire la porta e non possiamo parlare adesso Claudio prende la nota di tutto non passa sotto la porta al foglio aspetta aspetta due due o z due o z due o z ah perfetto due ok con tutti i numeri chiamo perché è trattenuto nella dogana di Gorizia un amico volevo volevo sapere come è possibile che sia trattenuto da otto ore in questo posto e ragazzi incominciano a essere nove ore come dice nove ore a lei a lei chi è che mi ha risposto io sono Marina Marina Marizza no aspetta Marina c'è Patrizia lei è un piantone di Gorizia ma scusi con chi sto parlando è al telefono Patrizia Patrizia è al telefono Patrizia Paternale è al telefono con la questura adesso però l'ho mutata perché sennò non si capisce quando parli tu ok allora le passo il signor Stefano Carniluti che sicuramente a livello legale è molto più ferrato di me la chiamata l'ha fatta la Patrizia alla questura è solo il centralino non c'è nessuno domani mattina bisogna telefonare è veramente è un film dopo mezzanotte è già mattina scusami Marina ma siccome non pensavo mi rispondessero ho aperto subito il mio microfono per farvi sentire ok ok eh sì qui c'è ti dico un sacco di confusione no vabbè adesso diciamo che mezz'oretta fa gli hanno detto che deve attendere ancora mezz'ora credo che mezz'ora sia passata anche l'ora vediamo se mantengono le promesse mi pare che qui c'è poco da sperare perché mi pare che qui c'è poco da sperare mi hai visto un po' qui con tu macchina che mantengono la parola in quel senso eh noi siamo qui siamo fermi siamo in piedi e raffettiamo finché c'è bisogno però stanno facendo gioco duro giocano a chi perde la pazienza prima quindi io sono disposta a rimanere in chat tutta la notte sì sì non ci sono voi organizzatevi con ricariche di batteria se potete usate le batterie ricariche che avete sulle auto per ricaricare i cellulari di sostituzione perché questa è veramente un'azione di prepotenza magistrale che dovrà essere montata a dovere da Davide o comunque da chiunque potrà fare un montaggio video un po' più breve di queste otto ore di registrazione però loro stanno giocando allo sfinimento e questo non glielo dobbiamo permettere e vanno prima loro alcuni di loro hanno cambiato turno le facce sono cambiate ma credo che abbiamo dato informazione a tanti di loro scusate posso dire una cosa quando Barbara ha telefonato ha telefonato a quel numero dopodiché dato che lei è fuori regione cioè in un'altra provincia non le hanno passato il magistrato di turno che però ci deve essere un magistrato di turno il fatto è che adesso quando Patrizia ha telefonato ha detto sono un'amica ma Patrizia scusatemi ma Barbara non si è identificata come un'amica si è identificata come adesso non ricordo magari Stefano ha la registrazione è quello la differenza perché loro non rispondono agli amici e quant'altro come sovranità dell'ordine come rappresentante della sovranità dell'ordine per cui da lì dovete telefonare a quel numero ma da lì se no a lei gli hanno passato praticamente i carabinieri cioè comunque il magistrato non potevano passarli perché lei è fuori regione dovete chiamarle da lì quel numero che è passato prima che ha chiamato Patrizia lo stesso numero ma identificarvi come vi dice Stefano per quello a Patrizia non hanno passato nessuno trovate a me ha detto che lui è solo per ricevere le telefonate ma non c'è non c'è intervento trovate deve chiedere del magistrato di turno bisogna chiedere del magistrato di turno se succede un incidente che c'è un morto il magistrato di turno c'è irreperibile è come un infermiere quello che ha detto Barbara infatti solo che a lei non potevano passarlo perché è fuori regione e per le loro procedure non si può ma dovete chiamare da lì trovate siccome vedevo un po' di modi hai capito cosa hanno detto? giusto il magistrato di turno è per ogni provincia Stefano devi farlo tu Stefano devi farlo tu il numero è nella chat se vuoi te lo ripubblico per facilità oppure te l'ho detto Stefano ora 20 mi devono parlare con te Stefano ma facciamo il 112 no 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 fai il numero questo numero che è la costura di Gorizia mi passa il telefono perché sono rimasto il batterio ok il numero è se sei pronto non ancora aspetta dove è il numero che posso migliorare il numero che posso migliorare il numero ci sei? non ho ancora ecco ecco ci sono dimmi 0481 59 55 02 questura di Gorizia dovete chiedere assolutamente l'intervento del magistrato di turno ok adesso l'abbiamo ascolta intervento del magistrato di turno alla frontiera di Gorizia per sequestro di persone identificatevi come ha detto Barbara esatto voi siete rappresentanti della sovranità dell'ordine esatto grazie silenzio un attimo che sta telefonando sovranità dell'ordine come si fa? adesso provo grazie Stefano metti in viva voce se puoi adesso chiamo il 112 la sovranità si salve questa è la sovranità dell'ordine del popolo e avrei bisogno di un intervento la polizia di frontiera qui a Casarossa perché hanno sempre stato un uomo vivo da sono ormai 8 ore quindi ho bisogno di un magistrato di turno che passa di qua esatto sì ok ma lei è di fronte adesso io sono qua fuori testimone sono testimone sono della sovranità dell'ordine e che è sequestrato da più di 8 ore scarnierutti 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 uomo vivo Stefano uomo vivo Stefano carierutti io sono uomo vivo Stefano scarnierutti della sovranità dell'ordine avrei bisogno di un intervento del magistrato qui in Casarossa perché avete stato trattenendo praticamente un uomo vivo ormai da 9 ore allora avrei bisogno di un intervento in Casarossa perché praticamente è stato trattenuto un uomo vivo ormai da 9 ore è trattenuto all'interno un uomo vivo da 9 ore è stato trattenuto all'interno da qui qui in Casarossa l'autorizia di frontiera sì sì esatto è da 9 ore che è qui prelevato con la forza dalla sua auto prelevato con la forza della sua auto quindi senza aver commesso nessun reato è stato prelevato dall'auto ok in forza dalla polizia di frontiera ok ma ci sono 9 ore sono già 9 ore passate è tutto in zoom e testimoniato registrato e testimoniato cosa? ricordagli che è tutto registrato e testimoniato e loro sono responsabili l'hanno messo giù Barbara ritelefoniamo 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 ma adesso c'è un po' di movimento io non so stavano andando sti qua voglio solo comunicare una cosa che mi ha detto lui di comore tra te il signor Paolino Claudio è in stato di arresto bene ci hanno comunicato che il signor Claudio è in stato di arresto ci sarà una cosa? una cosa? sì ma è stato svedito ma non è la questura di Gorizia che è stata chiamata vedi che lo stanno portando via sotto braccio quindi è in arresto è in arresto l'hanno dichiarato sono venuti fuori con quale accuse? hanno dichiarato che è in arresto sono venuti fuori a comunicarcelo con quale accuse? sono scappati non hanno voluto dire niente non hanno voluto dire niente perché noi abbiamo tutti filmato abbiamo tutti filmati ragazzi a questo punto siamo arrivati come funziona? altre leggi no? violano le loro leggi attenzione abuso di potere abuso di potere violenza su persone questo è questo è lo punto che si rappresenta le forze dell'ordine che difendono il cittadino così dicono ecco non in forza di legge ma in forza di autorità autorità solo autorità scusate Marina puoi avvicinarti a quei due stantuffi che ci sono lì davanti che si stanno bloccando l'ingresso e dirgli chiaramente che stanno facendo un reato molto pesante di cui ne pagheranno veramente le conseguenze potete farvi forti quanto volete ma siete intorti ecco ecco le volanti che vanno via tutta birra tutta birra dove viene portato si sa manco manco avessero avessiato un terrorista sì magari magari con tutto il traffico i clandettini che c'è ogni giorno qui hanno portato via un uomo vivo cerchiamo di capire invece dove lo portano eh se ci rispondessero sappiamo dove lo portano il signore prima prima io l'avevo scritto avevo visto un magistrato che si leva l'arresto ve l'ho anche scritto in chat vedevo un magistrato che l'aveva scritto l'arresto internazionale questa zoom internazionale possiamo sapere dove avete portato l'uomo sì ma vorremmo sapere dove lo avete portato sì ma dove possiamo andare scusi dove possiamo andare voi ci dovete dare una giustificazione dovete giustificare l'arresto dovete giustificare l'arresto siete in dolo per scusi che le chiedo no 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 scusi ci ho provato a parlare vorrei parlare posso sapere con che accusa posso sapere con che accusa le nostre forze dell'ordine niente marionette marionette sono scappati tutti questi sono quelli che dipendono giurando sulla costituzione 10 persone 10 persone 15 persone con un uomo disarmato e loro sono armati 10 persone ma guarda che noi fino adesso ne abbiamo visto una cinquantina cambio turno e balle varie direi anche oltre le cinquanta perché qui dentro sono 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 presenti se non andate via quante volanti saranno tutti chiamati a rispondere in questa azione assurda tutti soppressione del diritto omertà 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 una cosa verbo camminate vergognosa veramente più vergognosa di questo non ce ne sono arrivassero adesso loro sono nervosi perché non vi possono mandare via perché sanno ad aver fatto un qualcosa che pagheranno se ne trovi qualcuno digli cosa gli raccontano domani o ai loro figli lo toccano dobbiamo capire dove hanno portato Claudio quanto è successo a Gorizia stanotte se lo racconteranno ai loro familiari ai loro figli al suo figlio ha fatto un ottimo lavoro stasera diglielo a questo qua diglielo diglielo in diretta giusto chiedeteli di identificarsi se hanno il coraggio chiedeteli di identificarsi sono nove ore che nessuno si è identificato con nessun nome quindi quindi sono in menzogna in menzogna contro il popolo tutti tutti guardateli lì guardateli lì tutti in menzogna contro il popolo nella loro legge non si devono identificare con il nome la matricola è tutta una balla questa che hanno tirato fuori ultimamente perché anni fa io sono la gente eccetera eccetera adesso infatti domandate perché no? eh sì fieri di portare quella divisa complimenti complimenti ragazzi avete fatto giuramento domani sui giornali leggeremo questa notizia da da Mantova alla Calabria alla Germania al Lussemburgo la frontiera di Gorizia ha arrestato un uomo che non ha fatto niente sì sì assolutamente tanti tanti testimoni ideo ripresi c'è c'è eh niente ragazzi mi pare che qui c'è poco da dire le immagini descrivono tutto tranquilli perché Claudio comunque ha la forza dentro per resistere Claudio è un colosso non sanno che fare e questa cosa qua questa cosa qua sarà lo spartiacqua speriamo che non usino violenza è un uomo Claudio sarà lo spartiacqua di questa qua per far capire a tutti questi fattenti funzioni mascherine cosa significa essere uomini vivi salutate ciao 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 buonanotte buonanotte a tutti ciao buonanotte cercate di scoprire in che carcere lo portano omerta omerta ragazzi chiudo la chat no Marina Marina cerca di capire in che carcere lo stanno portando se è in arresto guarda 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 secondo me l'hanno portata in questura e non in carcere provate ad andare in questura se avete ancora forze ci hanno detto questo è quello che hanno detto però hanno detto un sacco di falsità fino adesso secondo me lo portano solo in questura per far finire quello che loro reclutano un teatrino lì davanti lo stanno portando solo in questura ci hanno lasciato fuori con questi quattro personaggi li vedete sì va bene ma quelle mascherine lì lasciatele lì dove sono si godranno lo stipendio si godranno si godranno lo stipendio guadagnato in menzogna e in non in in integrità però lo stanno portando in questura in questo momento non in carcere certo ragazzi se avete ancora energia provate ad avvicinarvi alla questura io andrei a trovare in questura sì ci passiamo davanti e andiamo in questura dai ho fatto 30 facciamo 31 che comunque noi abbiamo allora ragazzi il risultato è in arresto chi lo dice che è in arresto è perché ho visto il foglio ve l'ho scritto un'ora fa che aspettavano la firma del giudice ah e allora è in arresto per sicuro avevo visto il foglio ve l'avevo scritto in chat e il motivo quale hanno scritto anche il motivo sul foglio hanno l'era l'ha scritto il foglio si è riuscito a capire solo che la targa falsa poi gli articoli l'ho visti così non si è riuscito a leggere bene l'hanno portato dal magistrato non ha più senso l'hanno portato dal magistrato perché il magistrato non viene lì l'hanno portato dal magistrato perché l'abbiamo sollecitato più e più volte non è in arresto definitivo non possono non c'è reato ok ma noi possiamo fare presenza in che struttura in questura in questura perché è l'unico posto dove possono portarlo questo stavamo dicendo che noi adesso andiamo in questura a questo punto volevo ricordare che c'è già un precedente questo è successo in alto adige a Cristian che anche lui aveva la sua targa nuova e gli hanno preso come diceva Francesca della madre gli hanno preso le impronte gli hanno fatto le foto sotto costruzione ovviamente perché lui non era disponibile a farlo questo c'è già un precedente l'hanno fatto anche con con Cristian stessa stessa prassi forse lì non ci sono riuscite perché c'era il popolo lui era da solo lui era da solo era da solo quando gli è successo infatti e adesso probabilmente lo portano in questura che è da solo eh eh sì perché lui è proprio la tattica no? eh comunque a me ha dato molto da pensare ora io certo proprio la polizia scientifica come mai era sul posto allora Cristian io vi posso raccontare quello che è successo a Cristian che questo è successo adesso mi ricordo no all'inizio dell'anno sì che a lui praticamente l'hanno portato effettivamente siccome l'avevano malmenato e aveva un taglio sulla sopracciglia l'hanno portato in ospedale e lì c'era uno che gli voleva fare un TSO ma lui si è opposto e quindi poi dopo l'hanno portato in questura e lì gli hanno fatto le foto gli hanno fatto una strana iniezione che lui non ha capito cosa fosse insomma lui ha scritto un affidavit dove ha fatto tutto l'elenco di quello che gli era successo e e poi gli hanno preso in pronte foto e la macchina l'ha sequestrata e non penso che l'abbiamo più vista cioè io adesso non voglio diffondere la negatività però questo c'è un precedente questo è già successo Cristian stessa prassi e niente noi siamo qui vicini andiamo in questura e cosa facciamo ragazzi andiamo comunque l'ha lasciato andare Cristian una volta che gli hanno preso le impronte e la foto l'ha lasciato andare ovviamente è ovvio che fanno quello e poi lasciano andare anche perché non hanno motivo per poterlo altrimenti domani bisogna è già stata mandata in magistratura lì in costura la PEC no? l'ha già mandata la PEC ha mandato la PEC provate ad andare in costura a vedere se è vicina provate andare in costura se è vicina ok andiamo grazie 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 a tutti la stuttura è qui in città siete grandi dai avete fatto 31 siete la nostra forza in questo momento io sono senza macchina mi hanno la macchina io posso portare no no procuriamo adesso varie macchine comunque questa è anche una conferma di come veramente sono corporazioni perché in Germania per esempio invece la mi si dice custodia cartelare è possibile cioè se un soggetto è in indagine viene preso e viene portato e anche trattenuto in carcere finché non si è chiarito il perché questo in Germania lo fanno senza problemi e abbiamo avuto proprio nel periodo del covid un sacco di gente che era dentro per niente veramente delle cose assurde e anche l'inizio succede anche in Italia questa cosa la custodia cautelare c'è anche in Italia e non perché voi avete parlato di sequestro dopo otto ore qui cioè il sequestro il sequestro sussiste nel momento in cui non viene data una giustificazione di fermo ah ok ok allora adesso beh in realtà la custodia cautelare o l'indagine preventiva anche lì non sai perché no la custodia cautelare è per i delinquenti cioè quelli che commettono reati violenti piuttosto che quindi per cautela per cautela vengono vengono trattenuti ok in questo caso non c'è ragione di avere una custodia cautelare perché Claudio si è sempre semplicemente presentato con i suoi documenti che loro non hanno voluto riconoscere ho sbagliato la traduzione scusa mi spiace perché l'ho tradotto con dipol noi lo chiamiamo si chiama un tasù un saft che è praticamente detenzione preventiva cioè loro ti possono prendere questo è successo anche a uno del nostro gruppo che praticamente l'hanno portato dentro poi siamo andati noi che abbiamo pagato la cauzione per farlo uscire infatti avevo capito ma la detenzione preventiva viene agita nel momento in cui c'è una ipotesi di recidività nel senso che recidività di ricommetterlo lo stesso reato ok in questo caso non è un reato penale nella nostra giurisdizione è un reato civile perché lui comunque ha fornito dei documenti che loro non hanno ritenuto validi quindi non ha ragione di esistere la detenzione preventiva perché loro possono in tutte le situazioni in tutte queste nove ore avrebbero potuto accertare la sua identità a prescindere dall'universal pass volutamente non l'hanno fatto e questo significa una sola cosa significa che hanno intenzione di fare muso duro e hanno incominciato a contrastare noi e io sono questo è quello che io leggo dalla vicenda di stasera quello che loro hanno voluto fare nel numero di personaggi che ci sono stati all'interno di questa situazione cioè forze dell'ordine facente funzione presenti in eccesso in piena notte con addirittura chiamata di ambulanza per tentare un tso significa che hanno ricevuto l'ordine comunque di trattenere questa persona non hanno ancora trovato un motivo per cui non esiste il concetto di custodia cautelare neanche in questo caso perché Claudio ha fatto resistenza passiva è stato inerme per tante ore e non possono e non si sono potuti attaccare a nulla adesso a cosa si sono attaccati al fatto che lui si sia rifiutato di dare le sue impronte digitali hanno tentato anche in frode di recuperarle attraverso le bottigliette dell'acqua infatti lui non le ha neanche toccate insomma si sta agendo in totale frode per cui adesso presentarsi alla questura significa semplicemente che noi non abbiamo intenzione di mollare questa situazione ma soprattutto di non lasciare nelle loro mani senza una protezione dietro Claudio ma addirittura la sevizie senza cena senza cioè ma nove ore da come ho capito da come ho capito da quello che ci ha comunicato Claudio senza lui ha rifiutato la cena penso per il discorso delle impronte sai l'hanno offerta e questo non lo saprei però lui ha detto no no io non non accetto perché per il discorso in fronte e non ha voluto neanche bere della bottiglietta l'acqua adesso si credibile siamo arrivati qui con la macchina ma ascoltà scusami Marina forse che anche quella lì è stata una rigidità perché come diceva credo Barbara non so chi proponeva che se dovesse avere anche fermato un verbale però intitolato all'uomo vivo lui poteva lasciare tutte le impronte del mondo anche le impronte delle dieci quante le fanno tutte dieci no cioè qual era il problema Patrizia il problema è che Claudio ha deciso di fare un'azione importante cioè quella di dare dimostrazione a costo della sua incolumità per sfondare il sistema e lui sta facendo questo fa onore a Claudio assolutamente tutta la sua integrità e io lo ammiro profondamente perché io avrei fatto la stessa cosa non sarei in cui cedevo Claudio io credo che nel tempo si sia anche preparato molto bene un'azione del genere esatto brava credo che anch'io come dice Barbara Claudio sa cosa sta facendo dobbiamo continuare a sostenerlo quindi se io chiedo a chi si occupa di queste cose se per domani mattina prepara un documento che in centinaia possiamo mandare oltre a quello che è stato preparato per stasera velocemente perché questa situazione non si svilupperà so per certo facilmente e noi dovremmo essere quelli fuori che sosterranno lui perché lui confida in quello che noi stiamo facendo da ore per lui e lui sta ragionando in questi termini dal mio punto di vista per quel poco che ho potuto conoscerlo è un uomo autodeterminato forte e ha deciso di sfondare il sistema in questo modo se non c'è nessuno perché qui ragazzi siamo in questura non c'è nessuno non c'è nessuno avete provato a citofonare proviamo a citofonare e chiedete informazioni dell'uomo vivo Claudio vi hanno già viste e vi hanno già sentito figura che vigliacchi mamma mia però mamma mia le forze dell'ordine hai ragione Patrizio il termine giusto è proprio vigliacchi vigliacchi perché qui non risponde nessuno non c'è nessuno c'è luce dentro ma dalla finestra abbiamo visto che non c'è nessuno all'interno degli uffici perciò facciamo un passaggio ragazzi non è possibile non è possibile Marina deve per forza risponderti qualcuno quindi attaccati al citofono e fai in modo che qualcuno ti rispondo va bene beh farò saltare il campanello c'è un'urgenza ragazzi siamo in sei a chiedere notizie siamo in sei forse lo devi lasciare così si il campanello qui sarà un altro ventenne appena assunto è sicuro che sarà un altro ventenne appena assunto però è anche sicuro che la presenza del popolo c'è e questa è la testimonianza importante che stiamo portando scusate ma le macchine che sono andate via con lui a bordo era polizia o carabinieri polizia polizia ho visto polizia e d'altronde la polizia è solo la polizia di frontiera i carabinieri non interferiscono con la polizia ma c'erano anche i carabinieri o no questo non l'ho capita sono i carabinieri e la polizia e come era possibile questa commissione perché è arrivata il carabinieri è arrivata un'ora un'ora prima che lo portassero un'ora le cose due prima che lo portassero via ma dimet comunque in caserma scusate di notte in caserma c'è solamente il piantone e probabilmente non saprà neanche niente di quello che è successo alla frontiera almeno che non glielo hanno comunicato o almeno aprire quando c'è niente perché assolutamente no sono tutti informati ragazzi o a Trieste non qui di notte qua arriva la sette del mattino è solo che c'è amministra a filenze sì l'hanno portato direttamente in carcere scusato così lo avevano detto ancora ma no scusate ma anche che stupidata come si può portare in carcere una persona senza una giustificazione dai è in questura è in questura e stanno tentando di prendergli le impronte e di fargli le foto e lui si sta opponendo no ma qua questa qua no se me l'hanno portato o a Udino o a Trieste no no abbiamo il carcere qui è qui no ma come questura proviamo a andare in via Barzelli ma a questo punto proviamo a andare davanti al carcere ma perché il carcere è lì vicino è sempre in città ma dobbiamo spostarci un attimo se avete la possibilità andate a chiedere se è in carcere siete mitici ragazzi noi siamo ancora in 50 con voi grazie 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 che siamo siamo abbiamo tutti quanti tante cose da fare domani anche se è sabato però questa è una cosa importante non so che ora è è una cosa importante per noi e per Claudio che si sta prodigando per questo lavoro sulle targhe che è una cosa molto importante c'è Barbara che vuole entrare insieme non riesce infatti allora adesso andiamo comunque davanti al carcere Barbara dovrebbe solo riposare io andrei a chiedere direttamente al carcere sì ragazzi proveremo il carcere è ancora più impenetrabile eh infatti ma ormai insomma siamo qui ci facciamo un giretto della città c'è tutta la città piena di poliziotti si vedete ma si sa vedi Barbara che vuole entrare prego no sto parlando con Massimo no in realtà no è per questo ce lo sto dicendo mi sa che la sua connessione comunque ripeto se qualcuno ha la forza di preparare il documento da inviare domani mattina all'alba io e come tutti quanti noi almeno 50 pec gli arriveranno sia il carcere che la questura cosa intendi un affidavit adesso io non so esattamente che cosa si potrebbe fare magari la Franci o Barbara potrebbero darsi delle indicazioni più precise quando saranno disponibili sicuramente un atto di come dire incisivo per raccontare soprattutto tutto quello che è successo cioè la forzatura di averlo tirato fuori dalla macchina la forzatura di averlo tenuto in schiavitù segregato all'interno di uno spazio inaccessibile alle persone a lui vicine cioè vanno menzionati esattamente tutto quello che è successo in queste ore in questo documento e poi va immediatamente creato in fondo il remedy cioè o lo rilasciate immediatamente oppure incominceremo a tampinarvi e a chiedere di muovervi sugli ordini che ci sono cioè quello di rilascio immediato alle forze dell'ordine con l'UCC e poi molto probabilmente inizieremo quando scopriremo dov'è con delle posizioni in presenza ma in molti di più cioè voi siete dei pionieri stasera ma noi potremmo raccogliere tutte le forze e raggiungervi ed essere in presenza tutti quanti tutti quanti con i cellulari e con i bank energy a disposizione per continuare a documentare tutto quello che potrebbe avvenire da domani in poi cioè Claudio deve uscire al più presto integro da quella situazione e noi metteremo in moto dal mio punto di vista poi correggetemi se sbaglio metteremo in moto tutto quello che serve per tirare fuori Claudio integro da quella situazione senza avergli rilasciato impronte o fotografie come esattamente lui vuole perché è questo il messaggio che Claudio ci ha dato voi non potete assolutamente prendermi niente per cui ripeto qualcuno ha la forza di preparare un documento che domani mattina partirà immediatamente e allo stesso tempo perché comunque sicuramente lo terranno ancora per qualche ora in più ma sicuramente entro domani sera saranno costretti a rilasciarlo a meno che Claudio non abbia commesso dei reati ma non è non è stato evidente nelle registrazioni stasera però entro domani sera comunque lui dovrà essere rilasciato perché non ha commesso reati assolutamente o comunque non ha commesso reati contro il patrimonio non ha commesso reati contro la pubblica utilità non ha fatto assolutamente alcun che anzi ha subito e da questo dovrà di questo dovrà essere ripagato e tutte le persone che ci sono viste nel video dovranno pagare di conseguenza quindi anche se non abbiamo recuperato i loro codici identificativi noi li citeremo per turno effettuato e sui turni effettuati non ci piove perché sono registrati da loro non da noi da loro ecco ragazzi siamo in state superstiti c'è una signora rosa tesoro di settanta sette anni sentite lei pensate voi non ha fatto neanche le pec nel senso che sta è molto vicina a Claudio molto amica e si sente di seguirci fino alla fine non è ancora dichiarata viva ma insomma diciamo che da questa esperienza sicuramente rosa è andata sul retro scusate mi sentite mi sentite sì ecco qui in chat c'è scritto che l'altra sede della questura è in piazza Sant'Antonio c'è una sola sono due ingressi ma cosa facciamo proviamo a suonare il campanello per chiedere se c'è qui Claudio se c'è un occhio perché l'interno magari non si sa mai tutta la sera la sovranità del profilo siamo a chiedere informazioni se è stato portato qui l'uomo vino Claudio guardi non è questo ma è da tutta la foto ok no quello se ne è la notizia deve essere sicuro dove si trova ok va bene grazie c'è qua è qua è qua ti hanno detto che è qua tutto a posto ciao scusate mi sentite un secondo ogni tanto sento che parlate stiamo cercando l'uomo vivo stiamo cercando un mio amico scusate vi aggiorno Stefano ha citofonato e ha chiesto dove possiamo trovare l'uomo vivo Claudio loro ci hanno detto che è qui in tono molto gentile ci hanno detto che domani mattina possiamo avere notizie di lui ecco mi stavo dicendo che quando parlate di un uomo vivo per loro è come dire un comune cittadino se invece gli dirite che c'è il membro di un popolo sovrano che non è un cittadino lo qualificate in una maniera un po' diversa di dire un uomo generico vivo capite? conosco la bellissima loro che è l'uomo vivo perché c'era Marco dentro qua ma hai capito? no qualcuno domani mattina scusate qui c'è la Franci a proposito perché non riesce ad entrare in zoom la Franci e voleva dire qualcosa a proposito di questo documento che bisognerebbe fare che se riesco ve la metto in viva voce e vi spiega vai la Franci allora intanto è stato inviato un ordine esecutivo nell'ordine esecutivo vi è già un remedi per le vessazioni quindi fare un affidavit è pressoché inutile dispendioso complicato perché un affidavit comporta l'elenco di tutti i fatti avvenuti le singole dichiarazioni di ogni presenza e poi qualcuno che si occupi anche di raccogliere tutti gli autografi di chi era in diretta zoom youtube certo vuole del tempo per fare questa roba qua allora a seguito dell'ordine esecutivo non può che essere inviata la fattura no possiamo così questa gente riceverà una fattura e questo è allora quello che è stato inviato poi dalla sovranità dell'ordine andrebbe ratificato dalla nazione ok e continuate a mandare sepec continuate a spammare questo testo pec e continuate a inviare questo testo pec adesso in 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 oltro anche a carcere di Gorizia immediatamente va fatta questa cosa ragazzi io non ho sono pressoché isolata da quattro giorni e anche adesso sto parlando con una tacca spero che mi sentiate bene sì sì perché qua io vivo in culo ai lupi e non c'è linea sono senza telefono la linea fissa quindi non ho internet e niente e quindi al momento non posso fare niente anche perché sono uscita prima a camicia da notte quando ho visto cosa stava succedendo ero in giro quindi il tempo di tornare a casa a organizzarmi ma non pensavo mai di poterci mettere tanto per inviare una pec sono dovuta uscire per fare l'invio dalla pec della sovranità dell'ordine e comunque questo è quanto un affidavit della nazione è cosa grossa allora se ognuno di noi si prende la propria responsabilità limitata e riesce a costruire questa cosa ma secondo me con un ordine esecutivo non so non so fino a che punto ne possa valere la pena allora piuttosto un visto confermato come pubblicamente noto perché con fatturona quindi tutte le dichiarazioni come fatto noto come fatto visto confermato pubblicamente noto non affidavit non ha senso a questo punto ok spero di essermi spiegata scusa Franci mi senti grazie Franci mi senti quindi dobbiamo fare una ned giusto la senti da youtube Franci aspetta no io sono o sono a telefono con te o sono a youtube allora prova ad avvicinare l'audio vicino esatto Franci mi senti non aveva attacche ok ti senti ti senti ok dobbiamo fare una ned e poi fare un fatturone alla frontiera all'algoritmo no no allora non ho capito testo testo peck con i visto confermato con fatturona ah ok quel testo peck che è stato pubblicato nella chat è stata chiara sì potete rimetterlo ma i visto confermato non sono altro che le testimonianze di ognuno ok potete rimetterlo tutto quanto nella chat di assoluta integrità questo documento ok a quello lì bisogna aggiungere la peck della carcere ovviamente che dopo vedo se la trovo che era nell'azione di Marco che dovrebbe essere registrata dentro tra i documenti di supporto mi sembra che avevano messo la peck della carcere perché la stessa che era Marco ok se potete compilare un file di istruzioni anche se ce la fate chi ha la forza ancora di farlo io in questo momento sto crollando come tutti voi ovviamente e dopo vediamo dai quando arrivo a casa vediamo cosa è ok intanto fare un inoltre sicuramente della peck che abbiamo già fatto un inoltre anche alle carceri questo adesso ci riusciamo a farlo adesso adesso immediatamente è sparmato l'avviso su tutte le terre fornite l'indirizzo peck delle carceri di di Gorizia allora le carceri di Gorizia se non lo trovo punti esclamativi rossi e spammate ovunque inoltre il precedente peck al sostegno di Claudio e poi mettete l'indirizzo peck potete mettere nella chat l'indirizzo della carcere ok e poi domani mattina e poi magari domani mattina mettiamo su cosa fare individualmente ancora ok mettiamo su le chat cosa fare individualmente ancora va bene grazie ciao tesoro grazie grazie buonanotte 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 ragazzi siete stati fantastici grazie buonanotte a tutti grazie buonanotte buonanotte a tutti buonanotte abbiamo scritto questo inoltre mi raccomando ciao è dove si trova audio l'audio l'audio Roberta l'audio non vuoi dire microfono hai tolto Roberta hai tolto l'audio chiudo Marina scusa Marina in che via è questa questa queste carcere in che via sono così cerchiamo bene via Barzellini via Barzellini Barzellini già trovato già trovato adesso mandiamo l'indirizzo sulle sulle chat e sulle terre ma l'inoltro invece scusa Roberta l'inoltro l'inoltro alle carceri allora abbiamo già fatto la ratifica e dov'è e noi l'abbiamo già messo anche in assoluta integrità e anche su assoluta integrità rimettete tutti i documenti per favore perché abbiamo cambiato tre chat nelle chat non si può rientrare precedenti se ce la fate sì rimetteremo il documento da inviare da ratificare la sovranità dell'ordine ha mandato una PEC il popolo la ratifica ecco molti di noi l'hanno già fatto e e la ratifica e aggiunge l'indirizzo fa un inoltro anche all'indirizzo PEC delle carte che manderemo tutto sulla chat di assoluta integrità e sulle terre e poi ognuno di noi farà una fattura giusto e poi domani mattina ci sarà un ulteriore messaggio dove sarà descritto tutto quello che dovremo fare successivamente successivamente prima c'è da fare questa ratifica e questo inoltre alle carceri questa mattina ci saranno delle altre indicazioni per tutti grazie 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 buonanotte 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 mi porto la Marina si ci voglio proprio bene magari te mi appoglio la sti ci voglio aiuto grazie Marina ok ciao Marina vai a riposare sì tanto adesso Claudio starà dormendo cioè si è era pacificato Claudio è un grande è un grande merita tutto ciò e anche di più ciao ragazzi grazie a tutti